va dai il control dai proviamo contro oppure beh dipende che dove va c'è un carrellino forse troppo vai vai a cucina allora ovviamente niente contro se non c'è il carrello ah ok contro contro si si vabbè ovvio se non c'è il carrello o se no potresti anche farlo se c'è il carrello sulla nave bravo bravo stavo per te lo io c'è un esagente elicottero giustamente che mi stavo a prendere hanno sparato sul cadavere zio no good no good non si fa non si fa perché uno poi vi deve prendere si deve incazzare no good forse non ti do passi ci sono le mani i mani i mani i mani i perisic ore da qui da me perisic c'è l'ex giocatore c'è uno sotto ragazzi ho appena chillato io ero russo sono y beta y beta jkd4000 mi ricordo che eri nella lobby della privata buonasera gioia buonasera caro buonasera padre con la lebron grazie mille francesco buonasera lebron james è qui c'è un gruppo è peggio di pirata eh purtroppo sì ma mo perché sono un attimo con le mani sul coso no ma me mutavo perché c'ho il muto io ok ok sì 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 anzi me muto un attimo allora ok ci sono tararara tararara però non siamo ancora intorno a sottosti un attimo non abbiamo una pubblica mentre ci evitano non va buona ma no che cazzo ne so ho fatto gli esercizi ancora sparato sto game ma che roba eh niente è rimasto vivo come ci pensa tonio oh raga sono il 32 eh dobbiamo uscire eh ma vedi un attimo ci hanno invitato eh ma se non sanno che invitare però dico no ma basta scrivere si hanno invitato ma guarda che sul discord loro ci si unisce stesso da lì volendo eh ci hanno invitato io vado dai vado 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 in update c'è sta scritto uniscivi se vai da discord eh ah è vero è vero sì l'ho visto ora eh bro allora devo mettere la mano eh fea le devo spiegare tutto le devo spiegare però che squadra siamo 10 la skin non va bene il 9 9 dico questa skin non va bene ok 9 io vedo 10 zi io vedo 10 io vedo 9 scusa vedi aspetta un attimo io vedo numero 9 di fianco al al nome nostro ah l'hanno cambiato fra era 10 l'hanno cambiato l'hanno cambiato eeeh 9 occupata ok no ok sono messo su 9 allora prima di tutto vedo un vitaio da discord loro non riuscite eh eeeh che vi entra sicuro da lì eh vabbè v'ho invitato v'ho invitato perché non mi faceva invitare v'ho invitato allora buonasera bamba io devo fare un attimo una cosa ragazzuoli devo prendere la telecamera come al solito metta la qua davanti a me dove sicuramente mi romperà le scatole perché mi romperà le scatole però eeeh del del one moment because shish fammi vedere se è questo che palle la devo spaccare di attaccare possibili sia questa no ma le cazzo è il il cavo di questo ecco ma non va ma non va ma non va guarda che c'è un problema ah ok aspetta l'ho trovata allora ecco qua yes ok c'è il monitor a sinistra signori la cam monitor la cam monitor because because shish perché capito nel torneo si adesso sta stiamo entrando nella prima partita del torneo infatti stavo attaccando ragazzi stavo attaccando la monitor cam tutto si torneo fabrizio quindi stavo attaccando un po' di roba mi pare non mi ricordo più che cosa dovevo fare comunque nel frattempo allora fatemi vedere se ho chiuso tutto si ho chiuso google chrome whatsapp e compagnia bella gestio un'attività così nel caso dovessero rompere le scatole comunque bla 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 c'è sta sempre tutto qui serveto tutto qui serveto ok ok ciao è impazzita la webcam bro oh mannaccia mamma mia fa un po' ribrezzo sta webcam ok diciamo che si è ripresa allora non vi sento più ragazzi ci siete raga si ci sono tu mi senti io si tu ma si 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 ti sento oh mannaccia c'è la webcam che è impazzita fra prima ma per un bambam la skin quella con l'emoji la si può usare si ah merda devo cambiarla la skins la skin dovete cambiare che rozzo rozzo quella lì non va bene cambiate la skin cambiate la skin poi serpentino da loadout non vale vale solo quello lì da terra io devo fare una cosa però ho dimenticato che qua bisognava mettere grazie sir grazie mille spericolato andiamo a te recupero rapido mi pare che tengo spericolato altre cose bannate una veloce carrellata dei ban e le solite cose e le solite cose zio silenzio 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 ricognitore penso da battaglia no però non ho letto ricognitore da battaglia bannato lo sai elicottero comunque elicottero juggernaut vai 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 mandagli mandagli tutto zio zio ok in teoria qua tutto pronto qua ci siamo che ha startato si ha startato ha startato ok in teoria c'è qualcosa che fa rumore nelle mie cuffie ronzio sarà che prende eh si stavo prendendo incredibile stavo prendendo che sta succedendo aspettate un attimo raga sta cazzo di telecamera come funziona raga quanti game sono stai game posso scartare sei sei scartare ok bella vabbè si si stimerà spero prima o poi si sistemerà I don't know speriamo eccomi qua si 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 ma io sono trucchi di torneggio spesso allora buonasera Michele bella no è torneo torneo andone è torneo contro potrebbe essere contestato visto che ci passa la safe però io ci andrei qui eh vabbè ma se fai così allora tutto sono contestato io atterro sul ponticello e vado a destra eh per un po' doveva terra tutte e tre insieme però eh si 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 ponticello poi subito a destra buonasera carmine buonasera andrea sicura contestata dai eh vabbè ma se entriamo tutte e tre insieme io direi di andare nella casa piccola no dove scendi no no ponticello casa grossa ah dal ponte ti infili sul ponte ponte devi proprio atterrare sul ponte non è facile Marco Marco ma che cazzo ci fai un altro l'ho tirato sopra occhio c'ho il bomb lo tiro così lo faccio scendere servo ancora attraga si si ma è una è sotto è sotto il ponte scendiamo tutti insieme piano piano qua dalla parte grossa dalla lupo dalla parte grossa vieni vieni io non ho mitragliate io ho solo un assalto con 26 colpi vai vai puciamo puciamo è sopra sopra Tony a terra a terra Freddy c'è uno dietro il camion dietro il mio camion lo pucio io tu conmi capimi craccato craccato one shot issimo perché mi ha fatto a terra a terra razza a terra razza abbiamo il lodi raga abbiamo il lodi dai lo facciamolo subito io bravi bravi raga tutti belli uniti il lodi io non lo prendo se giro prendetelo voi abbiamo il regain sicuro che non lo vuoi prendere tieni no scusa sbagliate non lo prendo io non lo prendo io luco ok chi è che fa regain chi è che sta un pochino dietro come volete se volete lo faccio io oh è entrato è entrato ci ha pushato uno qua la porta uno che fa il giro con me è salito sopra è salito sopra sulle scale saliamo un attimo anche perché non sappiamo quanti sono può fare può fare sto arrivando noi siamo dalla parte grande vengo da voi vengo da voi vengo da voi lo c'è sopra c'è entrato sotto c'è entrato sotto lo nuovo sono gli spagnoli sì 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 mi sta pushando sto giocando di venire da voi è entrato da me è entrato da me mi ha messo sì è qualcuno per me è qualcuno per me Tony Tony vieni al mio piano è one è one sotto è sotto luco non lo vedo di qua bravi sopra è sopra è un fantasma tutti dentro tutti dentro sono dalla parte grande io anch'io anch'io sto arrivando piastre piastre Tony non c'ho le piastre io le compro le compro coprimi coprimi va tolto di mezzo cams zio sì 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 adesso aspetta fai compro le piastre fra è entrato è entrato è entrato qua scioltissimo a terra pure sopra a terra uno a terra uno Tony push a push a push a sopra mi ha autoreso mi ha autoreso le piastre qualcuno non le può riesce a comprare hanno fatto il lancio alla casa piccola pieno qui pieno due piastre lì eh tieni bro bro hanno fatto il lancio alla casa piccola quella lì di fru de brison adesso prendo avvi e vediamo eh no te lo dico già io li ho visti ho visti col lancio ok ok prendo avvi raga ok ci push uno sopra e due sopra so eh mi ha buscato sì 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 no merda siamo vicini siamo vicini non sta sotto non so se riesco ad andare audio un attimo prova prova ce l'ho vio oh c'è avanti lupi eh ho visto devo torna dentro sì 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 torna dentro tre secondi bravo bravo ne ho tornato qua a questo punto basta 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 buscino tutti contro ad ora eh io provo ad andare io ho fatto oh 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 c'è un team stai in area stai in area stai in area stai in area c'è uno qui ah lo so bro ah non è si è qui trovi go sono giù sono giù sono giù sono giù vengo da te cosa vuoi che faccia sì 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 prendi quanti ne sono rimasti sopra tony uno cazzo tu sei sceso stai arrivando stai arrivando no ma hanno ammazzato ma hanno ammazzato ma hanno ammazzato stai arrivando io c'è mano sulla torre eh sì bombarda pure date in audio sì dalla torre no non agganciare così che ci servono i secondi minchia minchia raga comunque c'è sta tutti c'è stanno tutti c'è stanno chi c'è Marco e fepea pure mamma mia eh bello tosto stasera il torneo raga bello tosto stanno tutti sono in volo io non si può andare sul lancio bro stanno sopra il lancio l'hanno appena ammazzato l'hanno appena ammazzato un altro tony non andare sul lancio no 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 ecco lupone uno sopra non so dobbiamo fare altre un po' guardi un attimo guardi un attimo guardi un attimo la terra d'ampax la terra poi fepea mi piace lupo let's go baby sto arrivando andiamo da lui vai vai da lui subito finito da te vai da lui no no mi sono beccato gigi no calmo un altro team terra uno merda bravo 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 tony porca puttana let's go baby così così raga posizionamento abbiamo un po' di kill ci siamo dobbiamo solo posizionarci bene adesso poi gli ultimi kill arrivano da sole bravo bravo siii marco esatto esatto bellissima giocata gg tattato tattac proviamo andiamo dal tunnel lupo che non voglio stare da un è sceso qui dietro eh calma 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 bro mettiamoci un attimo aspetta un attimo aspetta vediamo dove chiude e ci muoviamo chi ha attivato il radar non io guarda me uno è sceso uno è sceso alle tende vanno killati eh cazzo mi ha fatto no no eh tengo va via va via lui cazzo però audio questi mome vengono a push sopra sicuro forse cioè non è detto forse no si son qua no ma cosa spari sul cadavere sto spagnolo questo cretino dai va bene va bene 13 kg va bene eeeh devono fare il giocale di posizionamento ci siamo ma poi sempre qua sono venuti sti cazzo dei spagnoli avevano il log di mi sa lì dietro perché erano appena suonati non so quante volte li abbiamo killati e ancora tutti vivi ah si dai dai buono raga va bene adesso faremo meglio adesso mi hai dato tu le foto si si eh bro là ci siamo divisi fra non dobbiamo stare mai stavamo tutti uno uno e uno ci han fatto a uno uno tonico quando è così bro vai dal loop non andare mai ok quando muore quando muore uno di noi anche quando mi vedi quando mi vedi che mi hittano quelle piastre che mi stanno togliendo zio vai subito dal loop io te lo chiuso ho bisogno di tanti ti chiamo se uno muore quello l'avevo crackato se uno muore fra oppure sta già quasi senza vita è inutile ormai correre da lui è meglio ma non stavo correndo da lui non so dove stai c'è un buon tipo che stava pushando si si no c'è un tipo che stava facendo il giro l'ho crackato e mi hanno tradato questo è un bel team questo è un bel team degli spagnoli di solito se giocano tornei molto cioè internazionali bei tornei grossi se giocano anche dei 1000 2000 3000 euro c'è gente forte questa qua però l'avevamo chillati non so quante volte l'avevamo veramente chillati un sacco di volte la control si opera sono tornati un'altra volta a farci una sera Francesco allora Filippo ti dirò a volte no e a volte si dipende dipende ieri no ieri no per esempio ieri ho giocato senza diciamo che nel weekend le lobby diventano impossibili quindi oppure quando devi fare i record per forza quella devi usare adesso siamo in torneo bella Luca buonasera buonasera ragazzi siamo in torneo si sono presi già la posizione guarda là chiudeva pure qua da control noi eravamo perfetti eravamo perfetti posizione no ottavi che siamo arrivati ottavi ho accorto si del lito che è rimasto ancora I don't know ma clones chi è? non lo so brody sinceramente non l'ho mai sentito manco io non ho visto di solito nei torni i clones questo è un buon positioning ma si sono si sono messi contro tutti quanti devo capire non è stato cam ma uno di questi due cretini mi ha sparato sul cadavere ma si Luca sono cioè ok ha fatto ha fatto clones eh ma ma vengono loro purtroppo se noi arrivavamo alla fine facevamo qualcosa sotto delle stelle in che senso il coso sotto delle stelle doveva morire lì no l'ho tolto un attimo perché siamo in torneo l'ho tolto perché siamo in torneo altri spagnoli canstaci ma che ma che è il torneo degli spagnoli zio ah che stiamo nel torneo degli spagnoli bro siamo arrivati a barcellona eh prendi gli schiaffi no no questo è ah no farà e ma me sa che l'hanno killato alle spalle mo l'ha killato l'altro spagnolo uno più uno più sono rimasti c'è ancora cams bro ma cazzo è possibile eh l'hanno restato eh l'hanno restato eh 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 ma sta senza nulla fra però dipende perché comunque se se c'ha le cioè se rimane qua sopra gli altri sono sotto rimane cioè comunque potrebbe prendere la seconda posizione che non è male che hanno le kill che c***o il bruno sopra eh infatti eccolo qua ah va ha trovato pure il marco zio ma vince lui potrebbe vincere non lo so quello sotto mi sembrava fara non lo so secondo me lo può fare tanto deve arrivare lui lui vedi l'altro cioè lui è fermo in posizione lo sto aspettando che arriva mo lo killa zio lo killa alle spalle sta cerca vedi che non non si fa sentire i passi eh peccato è girato eh ha perso ha perso lui un attimo ha perso non ha più piastre ha perso ha perso l'attimo l'altro si è piastrato peccato ma sennò avrebbe vinto se non gli scappava lì l'aveva fatto eh niente oh come di fare buona sera e allora signore prima partita è andata sì sì c'è il game di scarto c'è c'è stasera c'è stasera c'è il game di scarto io non l'avevo visto tutti i team allora abbiamo freddy razzo eccetera che mi ha chiamato prima c'è marco ffa chi c'è eccetera frega pre pre no ma c'è anche predator crize quando sono arrivati loro non ho visto eh no no aspetta aspetta ma io lo devo dire aspetta loro chi crize no sono stati i primi tipo brando 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 gg brando anche le kill anche le kill tutto le kill e il posizionamento cioè il posizionamento le kill non stavamo andando affatto male di kill raga eh perché siamo arrivati a finire stef ne avremmo fatte almeno niente signori c'è anche predator contro nel torneo infatti io ho scritto adesso ho detto oh ma che cavolo ci fai nel mio torneo contro ma che ci fai nel mio torneo contro ma sei un pdf sei comunque zio perone da discord non mi fa unire comunque a me si fra mi fa unire ad update coso compagnia bella bella bruno bella fabrizio ora sei ragazzi sono la prima partita andata diciamo che come prima non male poi se può si può stare si può stare se può migliorare dobbiamo migliorare il fatto zio che là ci siamo persi un attimino fra eravamo impegnati a famo famo avvimo andiamo de qua ci siamo un attimo divisi la nostra squadra è la 9? si si non l'hanno non l'hanno messo su discord bro non l'hanno messo su discord io sono andato in lobby recente esti sport partecipo alla partita ah ah proprio così zio ah buffo cattivo ah buffo c'è anche predator ma mi deve spiegare che ci fa predator che ci fa predator ok mi ha invitato gg adesso arrivo cioè cosa ci fa predator contro ma se lo becco il lobby zio se lo becco contro predator eccomi qua no 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 sono a pagamento allora quindi è coi raven è col team dei raven praticamente per forza fai vedere che c'è dei raven è doha predator che è un amico mio era del mio vecchio team e poi non ho e dami ah dami ok e dami 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 tutto dammelo tutto è già iniziato simone è già iniziato abbiamo fatto già una partita eccolo là guarda 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 dove sta allora assolutamente gli devo mandare la foto intanto la vedrà dopo perché muo in torneo quindi ok aspetta che allora detto ciò cosa è successo qua allora c'è sta il team dov'è il team degli spagnoli raga fatemi vedere just mc coso questi non li conosco raga ma manco questi torga guns è un altro spagnolo sicuramente clones si fu mai visti ah cams squadra 3 ok gli altri spagnoli sono squadra 3 panico com'è andata eh avevo fatto 13 kill la prima partita peccato stava girando bene poi siamo morti per un errore siamo morti per un errore la prima partita avevamo 13 kill ed era ancora il secondo il terzo giro quindi c'era ancora tutto da giocare c'erano ancora c'erano ancora quando eravamo a control eh ce ne dovevamo andare subito subito quando ho detto andiamo sotto nel tunnel di prison andavamo lì avevamo cassa di muni avevo siringhe e via potevano star lì 3 ore scusa mi ero mutato hai ragione hai ragione nel senso magari poi li potevamo oldare da lì in head glitch mentre arrivano poi si vedeva cosa succederà no 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 hai ragione pensandoci adesso si hai ragione hai ragione quanti team siamo? pare che siamo quanti siamo no 12 team siamo quindi manca la squadra 6 eh a quanto pare sì presidente 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 no c'è anche la squadra 13 bro no no c'è anche la 13 a quanto pare penso ci sia anche la 13 ma squadra 6 chi è? I don't know bro vabbè aspettiamo ma che ci stanno mettendo così tanto ma quindi quelli di là stanno facendo un'altra un altro torneo ma non ho capito ci doveva stare anche il team li ho visti oh chi lo sa ah c'è white con diablo oh lore grazie per la sub grazie per la sub benvenuto grazie per la sub buonasera pietro come procede? abbiamo fatto una una partita allora il mio team si siamo tutti pc ma la maggior parte di tutti i giocatori intorno sono pc guarda qua io non c'è un console player squadra 2 tutti i pc squadra 3 tutti i pc squadra 5 tutti i pc squadra 4 tutti i pc squadra 7 tutti i pc squadra 8 tutti i pc squadra mia tutti i pc squadra 12 tutti i pc squadra 11 tutti i pc squadra 10 tutti i pc squadra 13 2 pc e una play raga su 35 persone una sola console tutti i pc player wow fantastico ah no era pure un infiltrato scherzavo non c'è neanche un console player ho detto una stronzata non era del torneo quello l'hanno buttato fuori squadra 13 anche computer signori non c'è una console tutti i pc player non c'è una console eh signori che vi devo dire beh bello gg ho capito loro che torneo stanno giocando invece quindi non giocavano quello degli est che cazzo di torneo giocavano stasera in un altro torneo hanno saltato ma manca qualcuno me sa squadra 6 è vuota o sbaglio magari qualcuno mi sa che era si mi sa che era vuota anche prima forse ah boh non c'è fatto caso ma che è i don't know bro i don't know orcaptor orcaptor non ho fatto vedere il task manager ah ma era ma nemmeno io ah loro so non fa un altro tipo di torneo loro ok mi sa che prendo l'orario faccio un pc la faccio vedere adesso la differenza è immense ahia la differenza è immensa tutto è proprio un altro tipo di gioco la pc è proprio un altro tipo di gioco non ha niente a che vedere con quello sulla console molto più fluido grafica tutto più fps tutto tutto io ho 2.27 la mappa grande 2.07 reper poi il settimanale l'avevo portato anche a 3.50 in realtà però vabbè dipende ci sono ci sono momenti in cui sto più in forma altri che sto meno forma bella Lorenzo buonasera no no non è vero che c'è meno rinculo bro non è vero io potrei vabbè dopo vedo meno rinculo se giochi mouse stasera se giochi pad non è la stessa cosa ancora contestato raga come prima penso di sì però andiamo sempre lì sì 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 contestato c'è arrivato due sopra due sopra di noi uv solgia l'arma grado si sta autoressando il mio si sta autoressando ragazzi gravi mi sto piestrando vai 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 ora un lupo tre due uno vai no fatto fatto io tre me con la pistola fatto bravi 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 cazzo così così una tende l'ultima è sotto potremmo wiparlo lo dobbiamo wipare andiamo 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 io passo la piccola one shot one shot one shot fatto fatto eh non si è wipeato però sono tornati eh fa niente fa niente vabbè dai bravo bravo altri arrivano arriva il tonio mi sa che devi arrivare sta arrivando sta arrivando sul tetto bro sta arrivando sul tetto faccelo faccelo l'out no stanno fai tanto stanno fai tanto no sta fai tanto come sta fai tanto eh eh mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto aspetta aspetta no no è ok vai via vai via dovevi capare subito subito è veri con me frate no nicchia palle però raga dai 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 eh cambia aspetto in volo ma non possiamo tornare lì fra no così quasi ci torno io per prendere qualche kill raga andate è arrivato un altro team è arrivato è arrivato un altro team è per quello che pure quello volevo andare io andate provate a fare qualche loot in una zona abbastanza safe sennò sulla nave si può provare a loottare c'è carrello no la nave questa no bro perché no hanno una posizione alta poi hanno una posizione alta ma solo per prendere i soldi e fare qualcosa che facciamo provo chemical io provo con lui dai andato andato anzi no 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 c'è sul lancio che mi guarda non posso non posso ehi mi ha agganciato no ma porco non ci voglio credere raga che è successo mi ha sganciato il paracaduto e mi ha spinto più in là e sono finito a mare ho urtato contro un pezzo della nave e sono finito più in là ci voglio credere riproviamo dove ti bala dove ti bala uè l'unità buon salve buon salve a tutti pronto pronto chemical è pulito no provate provate contro no vabbè ormai vado io vado io contro vado io contro ah eh mi pusciano cazzo non ho questo ti farà eh eh dai tu come eh no ci ho fatto mi hanno fatto che ero affendo a lui ero affendo a lui devo rimettere finita a terra zio dobbiamo riuscire tutte e tre insieme su Deacon me sai buongiolo buongiolo buongiorno ragazzi buongiolo questo è il secondo game del torneo alla fine hai fatto quello che dicevo io la nave eh per forza per forza ma adesso mi muo adesso mi pusci vieni con toni con me sopra Deacon secondo me è meglio contro raga no contro lo stanno ancora pieno ancora pieno vieni subito sotto raga non sono più safe ora no no io dobbiamo mandata lui secondo me zio perché qua non siamo bene stanno sparando da qua bro brodi ce l'ho qua sciottissimo te lo prendi tu non li ho neanche sentiti questi fatta bene è one aspetta aspetta 5 secondi prima di andare a restare no 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 vai tranquillo non c'è ho dato team a nientato allora scendo da voi scendo da Deacon quello di Deacon si 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 era era pulito era pulito era pulito in teoria era pulito ci sono raga c'è uno qui non so insieme insieme 3 2 1 bravi raga uno è qui me l'ha fingato abbiamo un uavv possiamo fare un uavv si si ce l'avete voi vieni qua te l'ho lasciato al carrello arrivo arrivo stanno sparando è lì è lì l'ho visto l'ho visto a terra a terra fraxi a terra fraxi tiro bomba vanno agganciato da control mi busciano mi busciano mi busciano in casa uno è one shot uno vittato a terra fatto eh niente raga sono Marco sono Marco uno dietro c'è il team di Marco che vi sta per che vi sta per busciare eh ho capito io guarda guarda come siamo messi guarda quello dov'è guarda quello dov'è che sta là dietro a rompere i coglioni no perché hai piccato Tony eh non pensavo fosse eh zì io mo non posso usci da qua perché sono one shot cazzo eh eh bro eh zì nevi servivi peccato peccato per la foto me servivi lì vivo bro a meno che tornava lì a meno che Perchè non fa con Ha ha si sono fatto Mieterà terra in duelli Bravo Ah se l'ha perso qua bravo 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 però bravo 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 Cioè Cioè Che è successo Buonasera Alessandro si è torneo È torneo Questo è il team de cosa De marco sicuro Vedi che uno sta regainando qua contro Fisso Sto facendo regainare Uuu Comunque l'audio non si sente Cioè assurdo Grazie No il cacchio dello Oh Lo start zi lo start Oh cambiamo e non andiamo più control Ma guarda che abbiamo vinto i fight a control Poi non ho ben capito come abbiamo perso il controllo di control Ma questa cosa mi sfugge Cioè il primo fight l'abbiamo vinto Eh lo so lo so In realtà sai perché abbiamo perso Perché non ci aspettavamo Che dopo che avevamo tirato tutti e tre a control Tornassero subito tutti e tre insieme Sono tornati subito tutti e tre insieme Quindi il secondo fight l'abbiamo perso Sì Il primo l'abbiamo vinto noi Poi sono tornati lì Con tutti che erano morti E Niente non l'ha sentito Eh gioca con le cuffie al contrario Buonasera Alin Buonasera Siamo in torneo Ciao Davide Buonasera Eh mi sa che giocava un po' con le cuffie al contrario Buonasera Benedetto Basta con la blia Eh hanno fatto tante kill Questi qua raga Bello fra bella sta posizione Non l'hanno visto O forse sia Mi sa che adesso lo sanno Non si l'hanno visto L'hanno visto ora Ha paura però Da piccarla Di uscire Eh ma son tre Fra Forse non sanno che uno Non sanno che da solo Quindi hanno paura a salire Eh minchia va a entrare lì Lo squagli Cioè lui deve solo andare via Eh si Si prende tutti i posti Dove piccare GG Ha fatto bene Ad andarsene Eh ha tossito Eh gli ha tossito Gli ha tossito Anche con la maschera Incredibile Eh perché stava mirando Non l'ha messa Capito Ha entrato in mira È molto brello Eh questo qui non esce vivo eh A meno che non si prende No No Stanno sopra Guarda là Guarda là Lo aspettano Forse è da destra No eh no No ma l'avevamo visto Aveva tossito Stavano aspettando Sì 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 Non si poteva fare nulla Niente Non doveva tossire Fra Forse non doveva manco Ressare adesso Guarda che la safe Torna indietro Doveva restare dopo E sparo ancora da prison Tatatatatatata Sul lancio È molto brello Sta tornando Si va a prendere la posizione Dentro il casse Si camper Aspettando di ricevere Penso una delle prime posizioni Ci sta Ci sta Perché Tanto gli basta La seconda posizione Almeno per Fargli contare di più Le kill che ha novato Che comunque le hanno fatte Ma tale ha fatte White Perché Brello se ne ha tre Le kill le fa White Buonasera Giuseppe Buonasera Garisi Allora allora che facciamo Castiamo il torneo Castiamo un po' il torneo Sono rimasti in 6 Ancora niente Se non alla sesta safe Ancora non si killano No che fai Ma che fai Ma che fai Ho capito ma Se potrebbe aprire la top 2 Ma l'altro dove si è camberato Sono rimasti 3 contro 2 In safe No vabbè Mi dissocio Mi dissocio Gli ha attaccato Una crata addosso Ma perché Hai capito Che c'è il torneo Vabbè ma comunque Il ricognitore da battaglia È una vergogna Che non l'hanno bannato Zia hai visto Si può usare No io scarterei questa Fra quell'altra Abbiamo fatto 13 kill Questa ne abbiamo fatte 8 Cioè scarti questa No l'altra No l'altra Grande Pure predator È morto subito dopo di noi Assurdo bro Assurdo Che hanno vinto Aspetta Gli spagnoli Che mi sono perso Un attimo Sì 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 Basta Così spagnolo Ah no no Aspetta No no Questo non è il team di cosa No però comunque Non ne penso Siano italiani Basta Basta Che vengono Sembrosi stranieri GG È molto Brello È molto Brello GG GG Dai che Il prossimo torneo Chiudiamo i porti No 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 Mi dissocio Mi dissocio Si scherza Si scherza No questo è uno Dei tornei In realtà italiani Ma che Praticamente Si chiama Est Proprio perché È un torneo Dove in realtà Giocano un po' Tutti italiani Spagnoli C'erano pure i francesi Una volta Inglesi Mostro In questo giro Forse gli inglesi Non ci stanno I don't know Fatemi sapere Quando aprono la lobby Zio Aperto Aperto Già Mi invitate Yeah bro Come on Come on bro Invite me bro Invite me Ma usi il caricatore Da 31 32 Da 32 Se proprio Se proprio Può far piacere Uso quello Da 32 Zio Ci alterniamo Ci alterniamo Pronto? Ok Allora Eccomi qua Aspettate Nel frattempo Una puzzona Io me la devo fare Assolutamente Io direi Rega Allora Bisogna stare attenti Perché mo La negligenza Li abbiamo eliminati Da control In realtà Quelli sono tornati Lo stesso Non devono Assolutamente Prendere No no Dobbiamo stare attenti A quando tornano Cioè Noi abbiamo pensato Vabbè L'abbiamo killati Tutti e tre Fine Finita No Fra Sono tornati Tutti e tre Lì E dopo C'hanno fatto Quindi non dobbiamo Pensare Finita Secondo me Solo uno Deve andare Sotto sul lancio Gli altri due Devono rimanere sopra Non far prendere Control Sulla stanza Perché quelli Hanno ripreso Le armi Alla stanza E ci hanno Pushato di nuovo Eh lo so Deve andare Solo uno sotto Capito A prendere il lancio Tutti i soldi Si raccumelano E va uno E gli altri due Stanno sopra Vediamo Stavolta sono entrati Subito Si Mi sa che Stanno tutti Si si Siamo tutti Mamma mia Più veloci della luce Invece questa Oh avete fatto Lo screen Nesta partita Mi sono scordato Yes 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 Ah ok Se fa due A posto Allora Mettete le mine Sulle armi Così si ride No mi sa che Sono bannate Fra Mi pare Se non vado errato Ci beh Metti Fufu Mini Mini Tutte le armi Di contro Tutte le casse Fufufu Così non prendono Più niente Zio pera Ma guarda Ti dirò Se Se Cioè Se Famo Anche Abbastanza Kill Anche Un secondo Posto Va Benissimo Sì 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 Non siamo Ancora Riusciti A arrivare Inizio Il finale Raga Pensare Attenti Agli errorini Che Cunque Fra Qual Mezzo Errore Ti costa La partita Sì Ma perché Deve Fare Ma perché Devono Fai Tossici Che Sparano I Cadaveri Niente Devono Fai Tossici Zio Anche a te Ha sparato Sul cadavere Vabbè Dai 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 Eccomi Allora Mi raccomando Sempre Solito Coso Aia Arrivano Arrivano Con noi Sì 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 Mi sono presi In tre Il tetto Vabbè Vabbè Prendiamoci Un po' di armi Qua Eh Hanno attivato La torre Già Va bene Va bene Stiamo vicini Vabbè Cominciamo a scendere In piano Non c'è più niente Da luttare Dai Andiamo Scegliamo giù Uno Ferito Ferito No Sei l'ultimo Sei l'ultimo Vai via Vai via Non ce ne ho Sei l'ultimo Ero io l'ultimo Eh sì Ah questo è che Ando a scartare Allora Peccato Alla Che l'acchi Io direi che Cambiamo start Sì Alla Peccato Peccato Sto game L'abbiamo Giocato L'abbiamo Giocato Dove andavamo Andavamo Ci pingavano Loro Il uovi Della torre Della torre Della torre Della torre Della torre No Dekon no O bio O devi andare bio Fammi vedere Hanno fatto guadagnare Ci vengono le persone Chemical bio occupati Dekon rimani bloccato Tra chemical e bio Non puoi fare Dekon Mi fa un posto tipo Ok Praticamente living C'è un team Quinto quarter C'è un altro team Nova pure scende in team Ah sono arbor O Come fammi pensare Dovresti fanno start Arbor E poi arbor Te ne vai Nova Adesso valutiamo Dove facciamo un altro start Hai visto dove Dove stavano tutti i team Hai visto dove sono scesi Tutti i team C'è un team che scende in bio Un team scende chemical Un team scende a nova Un team di quarter Un team a living Un team a control E' un team priso Uno dobbiamo contestare Sì ma ha contestato uno Quale contestiamo Ma ha contestato un team Quello di head Quello di head non è facile Poi rimaniamo bloccati Eh ma c'è che è di facile zio Forse bio Proverei bio a questo punto Che hai pure possibilità Di scappare un pochettino Tra tutte le scalette Le cose sotto Se volete Il massimo Oddio Minchia Se volete vada Stronghold Ma l'elicottero è bannato zio Ma ha usato l'elicottero Quello fra Minchia Questo è il team De predator Uh Guarda qua Come si è salvato Fra Lucky Mamma mia Che culo Che culo No Mi c'è la contesto a tre Fra No la due Eh Aia Bifia C'è erano due team C'è tre team qua In realtà Eh bello difficile Oggi il torneo Raga Il livello è più alto Molti team Sono quelli che Se giocano I tornei Pure fuori Fuori Italia Bello Bello Ci hanno due lanci Loro Facciamo tornati a control Eh però vedi che Che fa Una volta che ci hanno fatto fuori noi Control è rimasta libera Zio Guarda là Hanno ripreso fuori il lancio No vabbè Se sono fatti tutti con tutti Cioè Erano due Erano due V2 Poi è arrivato il terzo Comunque sono morti tutti Là sotto Sono morti tutti Cioè Questo è il livello del torneo Cioè se spara uno Ne fa terra uno L'altro ammazza l'altro L'altro ammazza l'altro L'altro ammazza l'altro Appena si vedono Bella amiche Non è scoppiato anche questo Eh come sta andando Ma la prima partita Era andata bene La seconda così è così La terza sbagliata Cioè Siamo morti subito Eh mo loro pure stanno a problemi Quando lo c'è che alleno Non è facile Eh ma hanno perso tutto Però hanno perso Devono rifare il game Hanno ripreso le armi Qualsiasi cosa Sono tornati ma Noi dobbiamo stare attenti Direi che bisogna Bisogna Tredare Tredare insieme Ad esempio La pure ci hanno fatto Perché Siamo arrivati Un millisecondo Dopo Tutti quanti È successo Non so come spiegarlo Loro erano tutti e tre Lì attaccati Noi pure eravamo In tre insieme Però eravamo un attimo Siamo arrivati Non dico una alla volta Ma un pochino più distanti Un dall'altro E ci hanno messo a terra Una alla volta Di nuovo Hai uno Sono riuscito A metterlo a terra Sì che era quello Che avevo craccato Cioè eravamo appiccicati Eh lo so che eravamo appiccicati Ero di fianco Ero di fianco Alla porta che hanno aperto Avevo preso Una mitraglietta Che non avevo Un croonar Eh lo so Eppure siamo Entrati Però voi eravamo Attaccati a me Eh sì Eravamo li attaccati Però eppure siamo Entrati svantaggio Cioè Da quello che mi ricordo Siamo comunque Arrivati lì Svantaggio Non si è capito il perché O per la position Perché comunque Loro hanno la porticina Là dietro E noi no Loro hanno fatto Loro hanno fatto Trade switch Capito che hanno fatto Quando tu hai craccato uno E' uscito l'altro Fu un piastre bro A me quello mi ha fregato Io stavo sparando Al tuo che hai messo One shot E poi mi è arrivato Quello lì Con tutte le piastre E mi ha messo a terra A me Sì sì E invece noi eravamo Forse tutti e tre lì Capito Quindi hanno avuto il tempo Di farci uno a uno Invece loro Entrava uno Se ne andava indietro Arrivava l'altro Con le piastre Non lo so O non dovevamo scendere giù Fra E dovevamo andare A prendere sopra Però no Sopra a macello Non avevamo Non avevamo Niente Sopra Sopra Fanno gli spot Però Io non avevo Una metà Ghiaccia No Non si poteva Fare neanche sopra Fattamente Oh non saprei Non saprei Quel fight Quel fight Lì Che è molto strano Come gestirlo Perché Là stavamo Tutti tre contro tre Sono ancora in tredici Hai mai giocato Apex No Non l'ho mai giocato Apex Legend Non saprei Ah ma da voi Si sta bloccando La linea Quindi La linea Internet Arrivo subito Devo pure Starnutire E no Oddio Cacchio Brr 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 Eccomi qua C'hanno 20 kill Allora che è successo Bella Giuseppe Buonasera Oh ma vedo Io sto laggando C'hanno 20 kill Basta arrivare alla fine Ma basta arrivare alla fine Raga A giocare Beh Verso la fine Comunque te le fai le kill Perché ne restano E vita Sono dieci persone Comunque Sono poche Adesso Eh ma vabbè L'altre partite Erano molto di più Esatto Quindi avevano più kill Ma che c'ha due Due mitragliette Zio C'ha due mitragliette Non c'ha l'assalto Eh c'hanno una posizione Se dovrebbero andare più A pro Il tetto De contro Eh infatti Cosa qua sta andando C'hanno tutti e tre Tempra Devo fare pure La classe Con Tempra 3 v3 Eh stanno sotto control Oddio Sembra noi Eh è vero Sembra noi Fra Però hai visto Secondo me è proprio Un vantaggio Di quella posizione Comunque Che se sei mettetti Là dietro Fra Tu non vedi E devi uscire Per forza Da dentro la porta E ti fanno Probabilmente Loro avevano Sto vantaggio Qua zi Perché io Infatti Non vedevamo Io non ho visto Quanti erano Dietro la porta Prima Salute Grazie Grazie Eh C'ho l'allergia Come al solito Eh niente È molto brello Come al solito Uè Predator Non mi ha risposto Predator Non mi ha risposto Predator Ok Mi sa che hanno Avviato Vado a vedere Ho sentito Una notifica Vado a vedere Anch'io Vediamo Sì 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 Ok mi unisco Vedi l'hanno messo Da discord Mi sto unendo Da discord Zio pera Eccomi qua E mi sono unito I want to go Turuturuturutu Ora vi invito Eh Dove sei entrato Pepe pelele Ok invito Tony Ok Vendetta conmigo Sì esatto È lui È lui Ah ma una volta Fra Ci ho giocato anche insieme Mi ero dimenticato Ci ho giocato insieme Sì sì Dovrebbe essere l'amico De Savi Perché un giorno Giocammo io Savi Lui E Pingu Eravamo noi quattro Mi hai ricordato ora Bro Erano i tempi di Verdask Erano i tempi di Verdask Quando giocammo Eh bravo È forte lui Quando comincia Comincia Il 28 di ottobre Il 28 ottobre Paolino 28 28 ottobre È il 28 di ottobre Pelele È perché praticamente Loro mandano l'invito Su Discord E tu puoi giornare Da dentro Discord In partita Loro Quindi io accetto Da Discord L'invito Non dal gioco A volte Non sempre Buonasera Roberto Mamma mamma E mamma mia Mamma mia Quindi bro Che land famo? Eh Non lo so Non lo so Adesso se non volete più andare contro Decide voi Non lo so Perché fra La verità è che Stiamo a appare gli schiaffi Oppure Dobbiamo togliere di mezzo Il team dei Diablo Però non è facile Eh no Non è facile Dobbiamo muoverci subito Perché loro non ci Non ci contestano subito Sto giro hanno aspettato E hanno luttato sotto E avevano le armi migliori E quindi ci vuoi riprovare? Ah non lo so Luco Perché io No no Non ti preoccupare Non ti preoccupare Paolino Ma davvero Ma è un scioccale Solo da pc però Solo da pc Eh perché il problema è Dovunque vai Devi contestare O capiamo che team Va da qualche altra parte Un team magari Un po' più easy Da contestare Eh Non ci sono Ottimisi Più da contestare Però Boh Vediamo Eh Non so Non so La prima partita contro Fra ci sono arrivati Due team Uno più forti Un altro L'abbiamo distrutti Cioè È vero È per quello Dico Se non me Non lo so È riprova Fra Riproviamo Allora Come volete raga Io non Eh mi serve Tony Che parla Però Sì Tony Un po' spento Tony Non sono spento Fra Devi Devi comunicare Zio Cioè devi di che pensi Cosa vuoi fa Eh Eh no Dino a tua Allora Ritorniamo lì A che partita siete Siamo alla Adesso dobbiamo fare la quarta Dobbiamo fare la quarta partita Bella Gerardo Buonasera Più di me Penso che saprete voi Più di me Dove andare No Più che altro Eh no Ma più che altro Che ogni post Dove vai C'è un team Quindi Comunque Ti devi fai dare Esatto È proprio quello il senso Team più facili Purtroppo Non ce ne sono Quindi Piuttosto Andiamo dove Ci sentiamo più confident Per questo Credo che Control Posso andare bene Più che altro Che se voi Sapete giocare bene Control Ci possiamo riprovare Ma in realtà Perché noi Scendiamo sempre libero Di mass La questione è Vogliamo contestare Il team di Freddy Quello lì Se la risposta è Sì Andiamo a Control Se non ce la sentiamo Andiamo ad un'altra parte Tutto qua Eh ma tanto Se non c'è Se non c'è Il team di Freddy C'è il team di Farah Se non c'è il team di Farah C'è il team di Kijas Eh ma magari Magari un altro Magari un altro Semplicemente Un altro drop Eh bro A me L'unico che mi viene in mente Allora Ti dico C'era Arbor Che non era sceso mai nessuno Ho visto prima Quando hanno tirato il UAV Non c'era nessuno Arbor Eh ma Arbor Non c'è loot Lo segniamo Nova Nova c'era già il team Ed è complicato Zio Ci perdiamo in tre Uno va a destra Uno va a sinistra Scale Secondo me Tradiamo male Ci fanno Più facile A questo punto Control Zio O Control O Lobby Hanno chiuso la lobby Non so perché Forse non startavo Bagata Perché ne sono fie Allora Che hanno rifatto Adesso mi sto riunendo Da Discord Mooney Gang Un italiano Vero Pensavo che si è Buggata la lobby Mo' vi invito Sono io ci sono Ok allora niente Non mi invito più Allora Buonasera Salvatore Eh però c'ho ragione Arboros Se vai lì E non trovi niente Che non trovi soldi Loot E nulla Cioè fai la fine Di poveracci Living water is the place No I don't think so eh I think that we have to contest Control Control Maurizio Che non diventi un vizio Grazie per 200 stelle Dove vuoi andare Control quindi Che ha detto Che ha detto Pronto Control Pronto Control Eh sta mangiando l'hummus Se no Dai 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 Io direi Andiamo lì Ricontestiamo Spacchiamo la faccia Bravo cazzo È quello che volevo sentire Andiamo lì Spacchiamo tutto Da già la miseria Andiamo là Contestiamoli Fuori dalla lobby E così Uscirono Dopo 30 secondi Ancora una volta E ti tiro il bestemmione White White mi ha scritto In chat Ciao reviews Eh Scrivigli Ti facesse poco il tossico A sparare sui cadaveri No Perché io White Io non ho niente contro nessuno White Amico mio Ti voglio bene Aspetta ha scritto Ho sparato sul corpo al lupo Eh In prelobby Perché con Iskra Pensavo fosse Freddy Digli che mi scordi Ah ok Ok Infatti non ci sono persone tossiche in sto torneo Io li conosco tutti praticamente Eh fra Sono tre volte che mi sparano sul cadavere È uno scambio di persona lupo È uno scambio di persona È tutti me scambiano me freddi No No ma scritto salvatore Concentrati su control Zio Oh Se giochiamo a questo game Ancora Sono già Se metti Cile McDonald Facco tutto Prendo il pad Da dove c'è Se è stato ero Lo tiro via Ah è sub suo Eh dai abbiamo Non stava andando Cioè in realtà adesso sta andando malino Abbiamo giocato un game Però Boh Eh ma guarda che è forte Bro È forte White Uh ho fatto un reda Ma raga ma trovo bene uno che non è forte Mi stanno al video Ho rifatto Just McDonald Mamma mia come ce l'ho fermo Buonasera Alessandro Eh ci si prova Vise Dai dai Non spaccarlo Dai dai Oh Sludiamo in questo fondo E si scende subito insieme Subita subita Vum 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 E vai capito Stavolta li la faremo vedere E così Vendere White Party Ancora una volta Mi incazzo Te ne Te ne so Anche 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 Dai 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 Una cazza che si fa A perdere Questa contro Mannaggia A me Dai 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 Vieni con noi Sono di nuovo loro Che sono saliti sopra È sceso già che mi ha sparato Attento dietro che viene uno di dietro E mi è levato A terra A terra A terra Dai Mi sa adesso No avanti Un'altra E niente Gli ha messo un'altra Terra Niente Raga però Cazzo Control Boh Basta Basta Ormai basta Non si può piatta E io l'avevo messo a terra Però Daniel Non so chi è che mi ha fatto Ma era W1 Tuttissimo Mi ha fatto solo Perché è una lacca qua Devi contestare un team D'un'altra parte Non puoi contestare Contro Niente Raga non c'è C'è Valeo Not good Eh not good Eh zio Sono scesi sopra Preso le armi Sono venuti sotto Io ho preso l'arma Mi giro Faccio Daniel E poi sono andato a terra Eh io ancora Avevo un'arma di merda Avevo quei Mamma mia È finita così Senza parole Eh dobbiamo cambiare Ragazzi Contro non va più bene Buonasera Luca Eh lo so Ma è d'obbligo Nel torneo Fra è d'obbligo Luca È d'obbligo Da qualche parte La devo mettere Quel monitor E Nulla Bisogna cambiare Cosa O se va B O Decidiamo Damo un altro land Fra perché Contro non si può fa Ma cucina prison Non va qualcuno Ah no Non c'era manco Il carrello Non si poteva Procandare Sta partita No ma c'è gente Chemical C'è gente White a terra Sono fatti a diabolo Sono creato il diablo Stavolta il diablo Ha cambiato land È venuto qua Il quarter Vabbè Castiamo signori Castiamo Castiamo il torneo Eh maluccio Fra maluccio Cioè il primo game Era partito bene Poi è andato male Castiamo un po' il torneo Ha messo un altro a terra Ah vanno fatto Troppo lo start Vedete C'era lo start Che avremmo dovuto fare noi Control Bruciare di qua Ancora white a terra Anche il lato white Eh stavolta Stavolta sta partita Stavolta sta prendendo Di schiaffi Eh E mancano due Dopo questo Mancano due Eh si è bloccato qui Si è bloccato qui Muoviti Muoviti Fate Fate Uavvi Siete perdendo tempo Bello sto periodo È più preciso Questo puntino così è più preciso Daniel ha fatto la giocata brutta brutta Non si fa con la giocata nuova Non si fa E l'hanno Io vorrei farmi una pubblica Hai visto Vai 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 Io custom ball il torneo Eee Io sono già in pubblica Daniel Voglio aspettare un altro altro Daniel ha sbagliato Sbagliato Giocata che Che noi abbiamo imparato Che non dobbiamo fare Nei tornei Quello di andare da solo Soprattutto da qua Nuova Attilizzando la serando Mo sono rimasti bloccati qua La soluzione È andare via Andare via Secondo me Andare via Da andare a prison È inutile Continuare a sparare così È inutile Muove siete ribloccati qui A fa che cosa A spararvi Da tenda qua Da tetto a tetto Finestra a tetto Comunque pure se lo metti a terra Se resta Perché guarda dove sta La bella giocata Porta davanti Come scudo Non passano i colpi Buono ma non è riuscito A metterli a terra Confermo la posizione Non serve più A me è inutile Se è qua Vabbè vediamo gli altri Che stanno facendo Uno è in volo Che era morto È inutile È inutile È inutile Se stanno piccata Da qua No 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 Fra È un pazzo Un pazzo Infatti l'amico Subito a terra Fra È un folle Il zio È morti tutti È morti tutti Ma siete pazzi Bro Sono quelli che ci ho Achillato Sono appena morti Bro C'è No ma Sì Fra Dopo che si sono fatti Ultima headquarter Di white Hanno bussato Nuova Sono morti Tutti e tre Peccato però Quella giocata là Pure noi Abbiamo imparato A nostre spese Che non si fa Non si pusha così Da id a nuova Soprattutto se sono Tre piazzati In quel modo Non si pusha mai Stai molto in svantaggio Di solito pushi Quando gli altri Sono distratti A nuova Ti vai Ti rubi due Tre kill Se ne vai Sessione Mamma mia Come si muore bene Eh sono bio Forza bio Resta l'ultimo E anche loro Comunque Stanno per Per lasciarci Bella Daniele Buonasera Buonasera Siamo intorno Bello di casa Buonasera Buonasera Marco Siamo intorno Ragazzi Siamo intorno Però Adesso siamo morti Mi sto guardando Altro mini Bravo GG Hanno fatto anche questo E nulla Signori Nulla Appena Appena si fa Una cosa sbagliata Va a terra Muore tutto il team Questo è stato fortunato Ha fatto rinascere Non ha più nulla Solo un lancio Buttato a living Molto rischioso Che culo Che culo Gli era uscito Uno a destra Perché si butta Nel fight Ne tira via uno Tira due Tira due Via Nel terzo Mio dio Che cosa ho visto là Tra l'altro Era il team De predator No Io voglio uscivere Mi ho scritto Fra era il team De predator Cioè Sì Sono rimasto Così Fra GG 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 Questo va il team Peluca Totò Totò Coso Qua forse Sono spagnoli Torre Torre picca Immagino già Chi sia Quello là sopra Safe Chiude Verso Living Sono rimaste 14 persone Questo ha 3 kill Come potete vedere Siamo tutti NZ 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 Blix NZ Marco Ma quella ha combinato Una roba fuori di testa Vero là dentro Mamma mia Là dentro Panico Signori Allora Si tengo una posizione Dentro la casa Sti tre Tutto lì la stanno Bene Quelle posizioni Stanno molto bene Però Gli altri 4 team Dove sono Sono 12 persone Allora C'hanno un team Nell'altra casa Di Living Che si sta sparando Ok Un team è morto Questo c'ha 6 kill Quello c'hanno 3 Se non vado Errato Tutti con la Blix In questo team 7 kill Questo Siamo Siamo intorno O domenico Siamo intorno Al momento Li ha Ingravit Beh Diciamo che Sicuramente Sì Qualcuno È tornato Indietro Insomma Con qualche Bambino C'hanno uno Sul tetto Credo Io ci sono Stanno ancora Finendo il game Qui sono rimasti 3 team Ci hanno qualcuno Sul loro tetto Sicuro E L'altro Nell'altra casa Di Living Se non vado Errato Quelli si sono presi C'ha il giro È passato È passato Sono passati Sono entrati Nella casa Bro Prenditi la maschera Che stai facendo Sì Che c'è No no Mi muto Mi muto Ma no Fra ma c'era la maschera A terra Non l'ha vista Sì Mi sono mutato Non vorrei dire Ma potrebbe condizionare Il game Il fatto che Non ha preso La maschera Lì Mi potrebbe Condizionare Il game Cioè vedi Mo tu Stai qua nel gas Zio Mo se avevi la maschera Devi tranquillo Qua si è fatto Prendere dall'ansia Raga Sicuro Non l'ha vista Proprio Secondo che la maschera A terra Stava con l'ansia In mano E infatti Adesso la compra Comprai un 1v Agli amici tuoi Bro Non devi fare le piastre Compra un 1v Al team tuo Ma no Entro nel gioco Ti distruggo Dopo 3 ore Gliel'ha dato l'1v Cazzo Subito Glielo devi tirare Poi non starei mai Da solo così Ah Resubisco E anche gli amici Hanno sbagliato Comunque Cioè Posso capire Che lui muore qua Perché Stai senza riparo Ci stanno 3 dentro la casa Appena spari 1 Escono in 3 Però Vabbè Però Gli amici sul tetto Perché se sono fatti ammazzare Non l'ho capita Questa Potevano rimanere ancora sul tetto Vabbè Vabbè I don't know bro 7 kill La Vlixen Col Col pomello sopra Allora Guarda Domenico Io Oggi che è martedì Io il mercoledì O il giovedì Gioco praticamente Con chi è abbonato al canale Però Se in uno di questi giorni Riesco A collegarmi A ora di pranzo Mi faccio qualche partita Con la chat Però di sera è difficile O si è abbonato al canale Di sera O sto col team Capito Un po' Un macello Allenamenti Tornei Eccetera Ora di pranzo Quando ci sono Magari attacco Potrei farmi qualche partita Ecco Che posizione abbiamo fatto A quella di A Ma Pranda Pranda Iari Che hai combinato Là dentro A quei 3 che ti sei fatto No è uscito Tacci sua Allora Hanno finito la partita Ragazzi Quindi penso che adesso Aprono Va bene Entro Entro del gioco E ti distruggo Allora vediamo Se hanno Mandato l'invito Su discord Si l'hanno mannato Bro Ok Sono rientrato Ta 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 Muovi invito No way bro Invito Invito Mandato Tony biscotto Con i baffi Mandato Via ci siamo Che stavo a di Forse Forse è uscito da quella casa A ragionare Perché ero troppo pazzo Però mamma mia Wow Vediamo Vediamo che si dice Questa è la Io ti ho invitato Da mo' Ti ho invitato Io sono dentro Scusate Ti ho invitato Ti ho invitato Non dormiamo con la zizzera Non dormiamo Dai 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 Capisco la zizzera Di battipaglia È bella Però Oh lupo Per cazzo Scendiamo Avvio Va bene Abbio Già volevo scendere prima In realtà Però Ho detto Cazzo Carichiamoci Le andiamo a spaccare Niente Abbiamo perso Troppi fight Non si può più Non fa più Non è più cosa Non è più cosa nostra Zio Peccato Peccato Fra Peccato Cioè il primo game Avevamo fatto il panico Lì dentro Vabbè Non è più cosa nostra Cioè abbiamo La sfortuna Che ci seguite Alla Beh Vabbè Ma non c'ha la Ma non è vero Non ha la Non ce l'ha Lei Al massimo Devo 3 De De Letta In teoria Ci siamo Ci siamo Ci siamo Bro Vorremmo essere tutte le squadre No? Non mi vedere Yes È molto Brello C'è Quello c'è Mio nonno c'è Sì Startato eh Speriamo che scende bene a bio la safe Dai cazzo Se se bio è safe Possiamo Vabbè no Vabbè vediamo un attimo Vediamo un attimo Allora da bio di solito Il giro che facciamo noi Nei tornei era Era Sè Sempre se Riusciamo a fare tutto Il lancio e tutto avvio Era prendere Sempre se Ammettendo che Vado tutto bene Facciamo il lancio Cioè tutto a posto Da bio praticamente Di solito Andavamo sotto decone Da sotto decone Prendevamo tunnel per chemical E pushavamo così Oh oh Eeeh One minute Bella madonna Sì Sto peluca Ha un laser Con la primaria Che è quello straniero Che è quello straniero Basta scherzo Inizia la vera battaglia Cacciato Sparata tutto guano loro Maronna Vero Io? 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 Non ce l'ho Che brutto Vero è Vabbè Che dobbiamo fare Siamo in down Quindi dobbiamo Un minico Caricarci Almeno avere le nostre armi Ragazzi Sennò La più dura Cioè C'è gente raga eh Sì c'è gente sotto Gente sotto di noi Visto uno Vai insieme Vai insieme a lui Subito No Che va 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 Che aspetto Che arrivano qua Hai Che va 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 Che me la so squagliata Gambe levatissime Ma guerra Dalla mid Non fa niente Che dove va Ti lancio Lo avvi Lupo Quello che posso fare Questa Lancia No ma adesso Fatti Ah ma sono rimasti Lì dentro Vio Vabbiamo andata qua Vabbiamo andata via Contro è risceso Il team Sì Sono riscesi Di nuovo Quelli lì Stavolta Abbiamo Lodi Dai andiamola a fare Lì ad Elkon Che loro lo vogliono Far lì Eh Sì Infatti loro Il lancio Lo possono fare Ce la facciamo A fargli Sto giro Aspetta Ancora sopra Ancora sopra Aspetta che si lanciano Magari Ti è tirato Uno One Proprio dietro Sta porta Eh no È sceso È sceso sotto Eh no Ho sbagliato Io Mi ha piccato In due Sta uno L'altro è sotto La porta di Mio Che guarda Sì Ciao Aldo Buonasera Siamo in torneo C'è restato Voi è quello Ma dov'è che l'avevi messo A stare Lo volevo confermare Qua un altro team Eh un altro team È dietro No vabbè c'è un team Da prison Sono arrivati Da prison Eh quelli C'hanno le armi Vero Eh hanno fatto Il loadout A prison E sono arrivati Mamma mia Chemical era libera Con il UAV Non ho visto Eh forse sì Sai No però hanno tirato Hanno tirato Il loadout Sì però Verso Chemical La Chemical Guarda Proviamo a scendere Eh dove vuoi scendere No Ho la nave Tutta la nave Cazzo E hanno fatto Il lancio però contro Eh No dai Sotto prison Sono andati via Quelli là Eh proviamo Eh ma c'è gente C'è gente ancora Su seafighter No però Gente sopra prison Sopra Sopra prison Io ci andiamo Sotto Sotto Sono in cuscina Io Qua c'è uno a Blixen Bella la prendo io E qua c'è un Marco con type Erano fuori Verso il muro Eh verso il muro C'era gente al muro De prison C'è uno sul muro C'è uno sul muro Amici qui vicino Eh l'ho vista Forse potrei andare a C'è anche gente qua Da me mi sa Sì raga Vai scappa È uno fatto Sono morto Sono morto Audio Allora Rientro Che rinforzi sono in arrivo Eh a me mi ha fatto Vabbè 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 Non scende qua C'era Sifu Dall'altro lato Che mi teneva Aspetta Mi Tony prima di scendere Dovemmo andare Eh l'ordine Mi ha messo Malissimo Cazzo Malissimo Forse possiamo Possiamo prenderlo Vado io Tony Aspetta Scusa Lo prendo E vado sotto prison Eh sotto Possiamo andare sotto prison Niente Niente L'ho preso pure loro No C'è un altro team Eh sì C'è un altro team Eh c'è freddy Su control Ah non era Control Era anche lui Pena spawnato Mamma mia raga Ma come cazzo Bisogna giocare Sì scendi A chemical Prova che Eh no No ma è già andato lì A chemical Eh ma non puoi scendere Manco lì al lancio Zio Stronghold Di te ci sarà un team Eh lo so Però mi sa che è l'unica Eh però Prova Prova Tanto io sto rincando adesso Come Torre libera Torre libera È sceso uno È sceso uno qui Mi è sceso Ma E se con le armi Non lo so Non lo so Mi è sceso No no è sceso Sdraiato È one shot È one shot È One shot Adesso Pusciamolo Dai Non ci facciamo Nemmeno A terra Fatto Chi Mi ha chiamato Che sono uno di vita Ci pusho dal carrello Dal carrello È arrivato È arrivato È qua fuori È Sagiato It's One shot One shot A ripo Puscelo Fatto Bravo Piastro brodi, sono a zebra Veloce l'ho, ce l'ho Come rifai il lancio Vai vai facciamo il lancio Passami i soldi rimanenti Non mi basta No non ce la fai Però te l'ho lasciato, te possono servire Eh lo so Prendo tempra Allora Se abbiamo culo La safe si chiude qua da noi Se abbiamo culo Bello sto bar Eh ma dovremmo Dovremmo fare qualcosa Prendo una saglia Sì di me lo so brodi Ma cosa facciamo Dobbiamo pushare per le kill Andiamo andiamo Dobbiamo pushare per le kill Eh dobbiamo andare Dobbiamo andare Vado con Tony Vado con Tony Ci vogliamo proprio Rappi a control Dai dai Prendo un'altra Ma però pushiamo 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 Qui Sennò Sono solo figure di MEDDA Uno è di fronte a noi Vabbè No Torre 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 Niente mi tengono piccato da sopra Ha pushato Ho fatto uno Hai fatto? Un altro team A terra a terra Un altro A terra a berlo A terra a berlo Con la granata St'arrivando uno qua in fondo Uno è qua in fondo Tranquillo Sto coprendo io Non vedo nessuno Ti copri a finestra Vogliamo entrare? Vai 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 Let's go Vai lupo Sono dietro di te C'è gente Sento passi Sento passi Sento passi Io sono a terra Confermato Mi faccio Mi faccio Mi faccio Mi faccio Cazzo Ma viene a toccar sotto Mi faccio Non posso Non posso ripigliare le mie armi Vero? Prova a prenderti quelle Beh beh Vengo da voi Qua sopra È sotto È sotto al carrello Uno è Vieni Tony Vieni Oh cazzo Ma stanno qua al secondo piano Era quello no? Merta Tony Tony Devi stare vicino Froni però Noo Noo Peccato Bisognava Aveva Aveva cazzo di ricognitore Tony non ti devi staccare da me Di sotto Però proprio Ero attaccato a te Eh no broly Non eri attaccato Non fa niente Va bene va bene No dai Non ci sono Non fa niente Tranquillo tranquillo Sono Esisi Cioè Ero attaccato a te Ne ho messo a terra uno E sono arrivati altri tre Ero team Regà Io pensavo che eravate ancora sopra Ad aspettarmi il secondo piano Stato al secondo piano di control C'era un altro full team Vi ricordate che posizione abbiamo fatto? Eh sesti O sesti o settimi Non mi ricordo Si vede quando finisce il game No Porca di quella misericaccia C'è anche il land Minchia Il land è stato tipo Un travaglio Eh il land è quello che ti penalizza Il land è il travaglio raga C'è È lo start Lo start che Che ci frega Eh ma non devi perdere mai Lì sotto Lì sotto raga Cioè piuttosto Tony Non lo so 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 Tutti con sto cazzo Di ricognitore Comunque ma perché Non l'hanno bannato Io appunto Io pensavo Eh io Mi ho ripapato ancora Prima che inzessi il fight Però io pensavo Eri proprio attaccato a me E allora è stata addirittura Dovrebbero vincere l'oro In caso questo si poteva vincere Se torrivamo gli spagnoli da control Porca miseria Ma era toglie o non toglie Sono arrivati due team poi Eh questi erano Ma se riusciamo a gestire bene Che loro magari si fightavano Arrivano a noi Questa poteva essere Una buona partita Grazie per aver vincere Cioè per forza di non loro Ci vuole andare a fare la kill Zio non lo vuole far morire il gas Ma di sopra Eh l'hanno di lato L'hanno di lato Eh vabbè ma ci sta Ci sta ci sta Allora Sesto posto Buonasera Che hai detto Che hai detto sesti comunque Mammo dovrebbe comparire Hai fatto la foto Io gli ho detto sesti Sì sì Vai 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 Perché tanto non siamo fuori posizionati Prima di noi Esserebbe fatto brello Cams è morto gli spagnoli E poi c'è stata data Ma di che il Prima team è morto Di just McDonald Secondo me è sempre Morto prima McDonald Poi Predator Eh Facciamo atterrare uno Tipo su nave Sempre un team Quindi Non puoi Prondo Prondo Andre male Male Stando male Stando malissimo Vediamo Aspetta Ma dovrebbero aver invitato Questa è l'ultima Teniamo l'ultima da fare Giusto Sì 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 Allora Vediamo Hanno aperto Gianna Incredibile Farà più veloci La luce Hanno aperto Ciò Beh L'arbitro Prima che finisca Se ne va Secondo me Sì Beh per forza Così riesce Subito a invitare E fare subito L'arbitro Allora Voglio che l'arbitro Fra Fa qualche cartellino Rosso Abbiamo bisogno Di qualche cartellino Rosso In qualche squadra Fra Ma qualcuno Che Corro No Mi dissocio All'arbitro Sì Questa è l'ultima Fra è l'ultima È l'ultima È l'ultima Vediamo Vediamo un attimo Dobbiamo fare Vediamo di fare l'ultima Dove famo tipo 40 bombe Così Vediamo un po' Zio Almeno l'ultima Io voglio provare a vincere No stasera Non sto con i ragazzi Di officina del pad Stasera Me stesso Ma Sto giro Ancora più Più focus Ragazzi Non so che cazzo Lo start Fra Lo sai Che fare Non dobbiamo perdere lo start Eh bro Dobbiamo vincere i gunfight Allora Il fatto è Fra Che quando uno Viene Viene agganciato Non deve avere quella cosa Che uno lo aggancio Anch'io Se tu Noti sulla minimappa Subito Che sei da solo Che non hai compagni Dietro di te Fra Te ne devi scappare subito E devi andare incontro I compagni Anzi tu intelligentemente Te li fai venire dietro Così loro ti seguono Per pusharti Invece vengono da noi Poi Certo certo No ma Luf mi sta dicendo Cioè Sono le basi Zio È l'unico modo Però che dobbiamo fare Non ci sta uscendo Sto sbagliando io Raga Non fa niente Non Porca miseria Porca Non me li aspettavo Due team Non mi aspettavo Il non trade Eh non so Antone lo so Però Bella Bella lobby Zio Bella lobby Tutti fortissimi Qua dentro Ci stanno gli spagnoli C'è sta Kijas Con Marco E Tata Bella lobby White Diablo C'è sta Predator Sto giocando pure Contro Predator Stiamo tutti Tutti più forti Stiamo qua dentro Avete visto morire Come un pollo Perché va a ricognitare La battaglia Se no mi seguiva Dall'altra parte Eh lo so Ma il punto è che Se no non facevo No è che se no dovevi scappare Come un serpente Avanti indietro Avanti indietro Tutto 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 Non lo so Le scale Ma comunque erano due team Ti beccavano Mi sa Avevamo tipo 16-17 secondi Prima di rientrare Era un po' un casino I don't know I don't know I don't know No Non bisogna Allo start Bisogna fare Quel cacchio di lancio Non bisogna morire Eh lo so Allora Quindi Quindi E quindi Bio manco e cosa Andiamo a fare un bagno A chemical Non lo so Cioè ormai Oh Sì perché Contro Sicuramente Freddi Saranno Incazzati Eh però Tu hai visto loro Come Come fanno Contro Si buttano sopra Se no andiamo sopra Con le pistole Si Pu 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 Ci si spara sopra Con le pistole Affan bagno Si fa Si va a fare Far west Sopra control Cioè che ti devo dire No bravo Andiamo Piuttosto l'ultimo Giochiamo Andiamo a chemical Come ho detto Vediamo cosa succede Anche perché Se le agganci sopra Cioè per forza Stanno con le pistole Boh Vabbè vai Cioè scusate Quelli scendono sopra Con la pistola Vai tutti Là sopra Con le pistole No prison No Prison no Buonasera Roberta Prison Per me è uguale raga Eh Cosa facciamo Tipo Tony è il classico Della comitiva Cosa facciamo Stasera Quello che volete raga Eh quello che volete No vabbè Quello che vuoi tu No ma quello che vuoi tu Quello che volete raga Si opera Io rido per non piangere Perché porca troia Dio Santino Merono Dove stiamo Ma io che Cosa ne so Raga Non ne ho idea Non lo so Tanto abbiamo visto Che cambiare zona Non cambia La situazione Dai 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 Basta Faccio prendogli Le redini Della silva Luco Prego E adesso Giogano tutti Con la pistola Fra Non prendo neanche Lo d'auti Amato tutti Con la pistola No E sto sparando All'amico Laggiù Non mi rompo Le scato Padone Sand Tu sei Quando i bromei And i metano Ok And i metano Freaking What to be Era meglio il mitraglione Tu 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 Allora Fatemi Dai 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 Carichi Oh Io sono una molla Eh a molla Dai dai Buonasera Adriano Dai chemical Porca di quella troca Dai dai Cosa devo fare Per caricare Dovrei stare lì Di persone Dietro la vostra sedia A tirare schiaffi Ma perché hai me zio Io sono Io sono carico A tutti Schiaffi a tutti Il primo che perde Che perde Un gunfight 1v1 Lo vado a prendere a casa Andiamo Mannaggia la madosca Povero gabbiano Arriva un team con noi Ho missato il land Eh anche io ho missato Ho finito sotto D'altra parte Non ho trovato un'arma Non ci voglio credere Dai ma perché C'è un'arma Io ho un'arma Io non ho niente Scappa scappa Lupo Lo confermo io Appena mi alzo Non ti preoccupare Sicuro? No no Mi sono ucciso Eh no Peccato L'ho messo pure a terra Eh ci ho provato Però mi sono arrivati Intra Neanche in arma Sono riuscito a strufare La gente pure qua Lupo C'è gente anche a bio Aspetta 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 vado in volo Fra Sì 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 E poi vado a stronghold Fra Qui già butta male La situa Cioè vedo già gente Che hanno fatto i load out Che ho incredibile Ho neanche un'arma Mi fanno trovare Già stanno Aspetta toni Sta in volo Eh no Hanno fatto load out qua Sono morto Non c'è che bio Non ricordo Se c'era gente Fra io provo bio E invece no C'è gente Eh m'hanno fatto M'hanno fatto M'hanno fatto Ce l'ho accendo C'era gente con le armi Quindi te posso Posso cantare una canzone Che è successo Stronghold? Eh niente Ma è un po' tu toni Vedi il living com'è? Eh io sono dovuto scendere Mi sparavano dalla torre Eh torre c'è in mano Mamma mia Ma sta con la C'è caluzza living E niente Ma torre sta col mitraione Eh sì Sta con le armi Oh proviamo Che è nova Com'era Lupo? No nova Di solito C'è stata M'hanno fatto Eh guarda qua Guarda Control Rompi i coglioni Come push Eh io provo nove Tony aspetta in volo Non venite qua Figurati zio Ma secondo te È un'arma seria Posso trovarla Cioè questi campi Erano poi Sono gli spagnoli Sicuro 100% Si sono agganciati Si Eh ero One shot La localizzante vale Verro Eh mi pare di sì Sì C'è il team Ma raga Ma sono costanti Non mi vedo Sulla minimappa Dove siete Come fanno a prendere la torre Com'è Tova Eh Tova No nova Zia infattibile Sono morto Ma questo Stavo Alza te Sono ad arbor Io ho preso il lancio Ok Adesso prendo anch'io bro Quei pusciamo quelli di Quelli di nove Che giuro Li sfondiamo Aspetta Managgia discord Dipende dai ti aspetto Coprimi il lott Loti Dipende Te potrebbero piccato a priso Non ti posso far molto Mi possono piccare da Da mille Situ Ci sono pure Quelli di chemical Che dovevamo vedere Uh c'è uno sopra il tetto Di chemical Fatto No si è salvato Non ci voglio crede Ma ok Me l'ha data Me l'ha data Oh la madonna Frana La chemical L'ha piccato? Sì Eh saranno gli amici Un saccottino Eh bro No Minchia Nova Mi hanno distrutto Eh Qua no Il cazzo che Beh pushare Sanno già che siamo qua Non possiamo pushare Nova Lo sanno Eh Non possiamo fare niente Ma che roba Stanno per pushare Stiamo vicini sopra Eh proviamo Non credo che pusha No Sembravano Le munizioni Le munizioni Oh Ha pushato Ha pushato Ma che c'ha Silenzio di tomba Terra Ok Gli altri sono lontani Gli altri sono lontani Ma zì Ma zì Ma non si sentiva Che ha messo silenzio di tomba Beh Magari Piano piano Eh sì Vabbè Se fa tutto il giro Ha quattato questo Questi adesso li pushiamo Non le piastre Non le piastre Non le piastre Non c'ho più le piastre bro Ah tieni Te l'ho messa qua Vieni vieni bro Che adesso li spacchiamo Qua Mi hanno usato silenzio di tomba Lo sono un certo Il problema è che qui adesso Figurati Fai sopra Figurati adesso zio Salire lì è la mamma Salire là sopra Dobbiamo salire Oh facciamo tutto il giro Da sinistra lupo Dobbiamo salire Vieni vieni Invece no Levate levate Scappa scappa Ti copro io Fai tutto il giro da sinistra bro Vieni vieni Seguimi me fra Ti seguo Sono sotto Oh ma c'è uno qua sotto Non ce voglio crede Io me la sto squagliando frate Io me la sono dovuta andare Io me la sono dovuta andare Sì dove è 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 La puttanazza Eh sei in una brutta posizio Oh mamma questo pad Che f***o Che f***o La maschera Niente Che niente Sono una roccia Sono E' arrivata gente da fuori safe Da dove sta il lancio nostro Sono una roccia Venite Fai la tempesta Ah questo qui devo ammazzarlo Eh no Eh no Mi sembra che sono morto di nuovo In genova che c***o Oh ma ha fatto all'ultimo A me mi faccio Mi vado Eh sono un cretino Che brutto pic Anche lui stava facendo Eh mi vedeva Mi vedeva Mi vedeva Che palle che c'è stava Secondo me Quelli di rava E erano sul lancio nostro Il lancio va pure fuori adesso vai Eh io si provo Non lo so se riusciamo No ma però non riusciamo Ci provo io ci provo io tranquilli Eh ci provo pure io allora C'è uno c'è uno zi Vuoi un altro No Sono un tonno Mi sono schiantato No Eh non c'ho le piaste Cioè non c'ho la stick Ma guarda lì va Eh no ma Io mi sembra morto comunque Mi sa Io ho provato ad andare Il più velocemente possibile Ad aiutarti Fra mi sono schiantato Come un tonno Ah tu ti sei schiantato Non ti ha killato Io mi sono schiantato frate Io mi sono schiantato Come un sasso bro Io l'ho crackato Che c***o vado ma L'ho crackato con la granata E' morto nel gas Mi ha dato la kill Non ti ha dato la kill Eh no Eh no Perché è morto col gas dopo L'ho crackato Mica che disagio ora frate Ora 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 è E dove c***o vado Eh Tony tu come sei messo lì? Non ne ho idea Fra c'ha una pistola la Tony Sì sì tre Sì 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 Sono fatto Sei riuscito a vedere Se è qua qua Su Qua sopra Sui due quarter C'è gente Vabbè rimango in volo io Zì Eh vabbè No ma è inutile Andare là A prison bro Bro di volevo le armi Si stavano facendo Sopra il tetto Era l'unico meno Era l'unico modo Per provare Zio Non sapevo che altro fare Nave Tu devi provare la nave Eh nave zio Eh prova la nave E vai piano piano in safe Eh aspetta guarda Chi ci sta qua Guarda abbiamo tre kill Fra cioè Anche se arriviamo primi Bro di Mi landerei dentro La casetta di quello Fra solo per fare la kill Eh che palle Non voglio 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 Posso prendere il bazooka No No Dov'è che sparava Quello No Mi devo prendere La roba Di questo Ah che falle Mi stavo guardando Alla che alla kill Ah ma perché hanno messo Mi guardava Cioè quando hanno messo Ha stilato la torre Riuscivo a vedermi fin lì Con la torre attiva Eh sì La torre di Mamma No ma non è loro però Aspetta Non è loro la torre Dai andiamo in pubblico Che sennò mi Mi cadono le palle Però pure il brello Cioè la seconda kill Il brello l'ha fatta Tutti i mezzi Che stavano arrivando Sotto di loro Mamma mia Accada Avevo preso pure le armi Poi ragazzi Non abbiamo iniziato a fare Non so cosa è successo Poi raga No Vabbè Sì ma quanti sono rimasti Qua sotto Dentro il gas Guarda caga Ancora stanno continuando A girare Quello sta ancora dentro Sono rimasti due V1 V1 C'è ancora Camz Camz è preso la safe Eh ma zi Ma così Stai abbastanza maluccio Continuo a tossire No Potevi aspettare La silinga Fra Ma abbiamo ancora Un po' di tempo Ah Che scaifo Sono agganciati sotto Living Attenzione Perché smette di piastrarsi Si gira Oddio 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 Atterrato Marco Oddio 1 V1 No Sono rimasti Marco è a terra Però se si resta Non si capisce Non mi fa vedere Non ho capito Se l'ha restato Fra Non credo Non credo Gli lo sta pingando Fra Vedi che è ancora a terra Marco Sì È 1 V1 C'è credo È sul tetto Eh Cosa Ma zi Ma non è normale Sinistra L'ho sentito Ah A destra Ragazzo Va Ma 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 Fra Come Come A fare Ma Ma Sì Perché Si vedeva Il Piede O il mantellino Tipo Una texture Del mantello O il piede O se no Mentre guardava sulla mira Si tagli la Gli ha raffentato Quanto è una Di bolla Troppo Possibile anche Quella roba lì Boh 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 Cioè Ha preso Direttamente Ha preso Da sotto Cioè L'ha preso Proprio lì Fra Proprio Nel punto Giusto Ma Dalla tenda Vabbè È live Pronto? Pronto? I don't know I don't know Vabbè Vatta a fare la pubblica Vatta a fare la pubblica Dai Vieni anche tu Per le wagers Ci alleniamo Eh dai 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 Ci vuoi zio Tranquillo Cioè se no Stacco No no Vai 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 Facciamoci Qualche pubblica Non hai altro da fare Che cazzo Come no C'ho 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 Andarmi a mangiare Il gelato Dai Invia Mi ha invitato Ok Ok Signori Vabbè Torneo Finito Niente Si va In teoria Abbiamo un altro Torneo Quando è Il 31 Quindi ci alleniamo Per il 31 Dai Vabbè 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 Ma Tony c'è? Va bene Matteo No 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 Voi allenate Per le wager Ah ok Dai Alleniamoci Dai 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 Non vuoi venire No Tranquil Tranquil Vado in privata Va buono Va buono Va buono Non è contento Delle sei partite in privata Vuole giocare altre private Non c'ho parole Allora Comunque detto ciò No non penso che ci tasse Però Ma è sembrato molto strano È da rivedere col var Quella giocata Bella bella Tony Bella bella Tony Buonanotte Buon Natale Non lo so Quello che è Oh guarda che sono le lobby landesi Questi Lui per preparare Eh Voglio vedere la lobby landese Come è Dai 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 Sono tutti fatti qua Oh domani esce Cosa ho la playlist con gli zombie Eh Ma domani esce la playlist con gli zombie Su rabbit Ecco Ecco che faranno un'altra cagata Scommetto Ah se polle va Questo Ma fa un mok finalmente Che schifo Eccoci qua Eccoci qua Città non si vedeva niente Ma Dici whatsapp Piro Invece di continuare Non so Non so Pronto Bella Pronto Madre Siamo Yes bro Cato che ieri il torneo L'abbiamo vinto noi Mario ieri il torneo Non è che li puoi vincere Tutti i tornei Ah raga Poi questo torneo I cappardino lì Mi trago Sono uno dei tornei Più difficili Si possono fare Sai chi ha vinto Sto torneo Penso gli spagnoli Chi lo sa Non lo so Ogni partita S'ha vinto da uno diverso Mi pare però eh Non ti saprei Non ti saprei di eh C'è Piro che scrive Lupo ha giocato male Eh lo so Cazzo dice E un bot si fa turnare E un bot si fa turnare Well Poi ha scritto una parola Infoprensibile Ma Piro bot Da me tipo Boh Vediamo un attimo Ah aspetta Comunque ho letto Meglio il regolamento Per il 31 eh Allora Ma si sa se uscirà Una mappa O tornare a Verdasken No allora Praticamente Ti spiego Ricca Esce il Cano 2 di nuovo Il 28 ottobre E dopo Praticamente Qualche mese Faranno uscire Un warzone nuovo Con una mappa nuova Che non c'entrerà nulla Con questo Quindi esce un warzone nuovo Direttamente Verdasken Non si sa se torna Qualcuno dice Che potrebbero fare Diciamo Come hanno fatto Con Rebert Quindi mettere prima Uno e poi l'altra Tra Caldera e Verdasken Ma non penso che lo facciano Che c'è 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 Ti stavo dicendo Che è Best of 3 Ma su due mappe No è Best of 5 No è Best of 3 È Best of 5 È Best of 3 Ha scritto No allora Allora Massimo 5 game Il primo che arriva a 3 Vince Ma non si chiama Best of 3 Non si chiama così No Si chiama Best of 3 No No perché quando tu giochi Il Best of 3 Praticamente basta Che uno dei due team Arriva a 2 Invece Stavolta Uno dei team Deve arrivare a 3 Devi far 3 vittorie Bro è Best of 5 E ma non solo Non è solo Su due mappe poi Si Devi vincere Prima su Rebirt E poi su FortuSkip Si 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 E in caso di pareggio Cioè se noi vinciamo Rebirt E loro vengono FortuSkip In caso di pareggio Mi pare che ha scritto Seconda chi ha fatto più kill Mi pare Si si Ha scritto così Eh Facciamo Vediamo di fare Wager contro St2 Va Facciamo Wager contro St2 Regà Comunque Non so per caso L'ho sentito Proprio spento Tony Stasera Stato stanco Eh la prossima volta Dategli una plastichetta Sì Abbiamo puntato Fa 3 vittorie qua 3 vittorie di là 3 vittorie qua 3 vittorie di là Ok Wager Ah e poi ha scritto Che se per esempio Moriamo tutti e 4 E non abbiamo fatto Almeno la coppia Non ha fatto 5 kill Non vale Cioè Bisogna rifare la partita E tra l'altro Non ci si può suicidare Eh no Ma questo è buono però Almeno così Se stiamo in svantaggio Di una o due kill Quelli non fanno la giocata La furbata Le suicidate Eh vero Eh io per esempio Soldi lo faccio Però potresti fare Un'altra cosa invece Potresti andare in contro A un tizio E farti killare Bravo Far finta di sparare Che cazzo non so Io di solito Scendo contro Andiamo contro Che c'è lo shop C'è un bel po E poi in pubblica C'è gente bro Sì 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 Entra Entra C'è uno alle scale C'è uno alle mie scale Chiamalo che ti arriva dietro Chiamala Io te l'ho chiamato C'è uno alle scale No no ma io ero buono Tranquillo tranquillo Fatto fatto Mi ha tirato l'RPG addosso Bravo Mezza sali in altro Mezza sali in altro No no ci sono Ci sono bro Sono procedo Sono due sotto Sono due sotto di me Mettere uno tranquillo Che va andato Eccolo Uè guadio Oddio Oddio mi stavo per far tornare Che è bro Brodi Dimmi bro No ho lanciato male il loadout Ah Cazzo Kill easy kill easy Vai con l'Olanda Viva l'Olanda Sì Occhio che sono brodi Sono tutti camperati Sugli spigoli Allora no Allora no Vieni vieni brodi No ti ho detto no Ti ho detto no Camperati agli angoli Ti hai detto Ma no Ma uno Uno si poteva fare Eh no Ma siamo Siamo sempre due Contro non si sa quanti Sopra camperati Come ti permetti Su Cheater 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 L'hai confermato il tuo Nice bro Sì sì L'ho fatto il mio Sono tre però lì Sì 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 Allora Allora mi diceva Ciao lupo vorrei fare Live su youtube Con la PS4 Cosa mi consigli È buono No brodi Ma perché Diciamo che Sì dai Per Per iniziare Se potrebbe Volendo anche fa Però Diciamo che al momento Nessuno usa youtube Non per le live Ma più che altro Per i video Diciamo ecco Poi comunque la live Dopo che la fai Dovrebbe rimanere salvata Che è stata salvata Sul canale youtube Quello è più che altro Il bello Dai dai che Domenica abbiamo Un altro torneo Regà Cerm via tutto Quello che è nostro Ci dobbiamo rifare Bella Luca Sto tornando con le armi A contro Ok vabbè Ma porca troia Quanto c'è 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 Sotto c'era ancora gente Se ho visto Eh dai Con queste mine Grande Guardate qua Dietri me Grande Gli altri L'ha vingati Sotto 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 Il piano terra Di dove Della parte grassa Eh grassa Che è la parte grassa Guardate Volevo dire grossa Ma io mi dissocio Sono qua Qui comunque Non farmi ridere Dai lancialo Ma la parte grassa Ha mangiato troppo cioccolato Dopo torneo Frate Lasciami Lasciami Scillare Così a fare Le wager Così a fare Da se le wager Asso È stato quello In una grada Secondo piano Non ho preso nessuno Da nuova Ho visto Sì Sono a terra Ci sono anch'io Altra casa Mi pare Stai salendo Stai salendo Stai salendo Sotto qua Stai salendo Stai L'ho messo a terra Però mi ha fatto l'altro Mi ha fatto uno Da Ha preso il lancio S'ha preso L'ho fatto Dai 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 Dagli 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 Lo Scania Me l'hanno rubato Sì Buonasera Matteo Aspetta un attimo Arrivo subito I'm good I'm good You are good bro I'm good I'm good bro You are very good bro You are good bro Sono morto Sono morto Sono morto Eh io sto andando a prendere lancio eh Buonasera Ho 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 Me niente No Non c'ho soldi per riparare sto cavolo di coso Sì Vabbè ci metterò un po' ad arrivare Ed ecco qua Dicevo Buonasera Matteo Fanfo Eh l'ho già accesa Però l'ho già accesa Quello è da prendere Eh non va a terra Eh mi stia Mi ha messo Dove chi è questo Ma dov'è che sono Stai mi chiuso Vado a rubare un po' di kill Vai 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 Mi sto rinendo a te bro Occhio che sono lì Sono quattro tutti attaccati Fra eh Te lo dico Ti senti? Mhm Eh ma non capisco dove Secondo piano Ok qua 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 Ok arriva l'altro Eh non sono riuscito a give a fafra Ho lasciato pure una grata Ma io l'ho attaccato al DOS Tu ru tu ru Sotorrando Oh Che cazzo Dove cazzo sono? No dai Non può andare Non a terra What? Sotto Oh e ne va inizio Cazzo sta combinando Aspetta che me lo faccio Eh vabbè in 13 S'ho tornato io S'ho tornato io Nice nice bra Sta venendo sul lancio questo? Oh Carca miseria raga Vabbè vabbè in 13 Mamma lupo Lupo lancio poi Lupo Che si lancia al lancio bro Ma devo rifare fra che culo ha avuto quello sotto Bro io potevo farne 5 line Ho proprio preso 2 kill Su 5 Perché è arrivato un altro team Pensa a te Qui ha bugato tutto fra Oggi c'è il movement di Di pinocchio Movement bugiata Ah Come vedevo prendere qualche kill Guarda l'azzo Sono spariti tutti Quando sono uscito io Guarda che ce n'è il sui Ce n'è il sui Dai entra dentro Ma perché non mi slida Sali Guarda lì Guarda lì Guarda lì Tu luco Eh zio sto guardando altri C'è un fantasma Vabbè ci penso Ci penso io Vabbè lo faccio io Ma questo qua sotto Questo l'ho fatto Cazzo è che ha lanciato sto robo fra Eh da sopra Ce n'abbiamo uno sopra penso Sì 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 No ma dato la kill Di quello come so a terra Mi sto muovendo con un bottone Sono sopra di me Io ne ho due bassi da me Riesci a pingarmeli bro Che ti do una mano No non li trovo più Eh che cazzo Arrivami Uno a terra L'altro E se sta restando Pure l'autoressa C'ha Vabbè Sono riuscito a confermare Eh no L'ha preso un altro Non so se l'hai preso tu Sì sì L'ho preso io Frate c'ho parlo di soldati pesante bro Eh scusa Stai in Olanda Ho la connessa in un po' fatterella Che ti devo di Easy E meno male Sei arrivato sparando in ritardo Eh ma ce l'ho incivolata però zio Non mi ha messo dentro un colpo Questo è restato qua fra eh Adesso mi viene una free bella free kill Dipende Avrà girato dall'altra parte Eh ma lo sentire qua si Chi l'ha fatto? Mi sa dove andato raga Poi non l'ho visto più Buonasera Gabriele Perchè tossisci di fianco a me Vai via Sì quando mi ha fatto quello sotto Che si combina? Niente ci stiamo allenando Vabbè prima abbiamo fatto un torneo Poi Buonasera Nino Prima abbiamo fatto un torneo E poi ci stiamo allenando un po' Per un torneo Che dobbiamo fare due contro due Domenica Eh vabbè Dai venghino venghino All good bro All good all good All good bra In questa ricetta Oh Oh Bella 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 gg bella ma la giocata la pace Ok stavo un attimo bevendo Ma io perché c'ho ancora la campirata Ma dici che è tornata meglio la Blixen Della Marco Ma zio io la Blixen non l'ho mai mollata Eh ma c'è stato un periodo in cui Era meglio la Marco perché l'avevano arrivata In cui fuzzava dici? Sì c'è stato Infatti stavano tutti con la Marco Ma ho visto che stasera in torneo sono tornati tutti con la Blixen Pronto 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 Ma che ha detto fra mi? Che ha detto cose bannabili Ho mutato subito Cioè ho mutato un po' di ritardo Però ho sentito che ha iniziato a fare Non ci ho capito niente fortunatamente Sei tu l'hosta eh? Eh sì sto cambiando secondo me Quindi io sto iniziando a collassare Ho Biscotto che buffa Ho preso quei tre lì Mamma mia Che sei? Bella Luca Normali io le vedo normali Sì questa era bot stranamente Non capisco perché Ma niente di particolare Le mie sono più difficili Ma non so perché Io quando gioco da solo Cioè sì Quando gioco da solo Io da solo Senza nessun italiano Fratele Le medie delle mie lobby Dagli 1,20 Agli 1,40 E quando giochi insieme Invece Sono botto Quando gioco con gli italiani Invece Non dico Alcune sono tryhard E altre sono Come questo Zio non l'ho mai trovata Però ti dico Non saprei Non saprei È da valutare È da valutare 402 di livello Zio sembra un tryhardone Guarda là Sono a 10 Sotto Sotto 10 Di win bro Da un mio amico Sto a 7,88 Lui sta a 7,98 Andiamo 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 Anche se Mamma mia Fratele Stasera Non so perché Ma Sono più stanco del solito C'ho gli occhi Così Fratele Mi sento stanco Adesso All'acchi Fratele All'acchi All'acchi Mi sento Cotto Ma sarà Che non sono Abituato Perché sto Facendo un po' Di nuovo Esercizi Sai Per mantenermi In forma Eh anche io Ho iniziato Oggi Forse anche Per quello Che era Un po' Sotto Un altro Neopro In realtà Adesso Mi sento Bene No io no Riprendere Anche gli esercizi Fra No per forza Fra Anche come Entra lavoro Eh pure Io sono Mettuta Però Inizzo a fare Un po' Di gambe Un po' Di addominali Zio Un po' Di Diflessioni Bella Ryan Grazie Un po' Di braccia No ma non è che mi fanno male gli occhi Senti quando senti la pesantezza sugli occhi perché sei stanco Quello Sì 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 io prendendo No no mi dicevi in chat Eh il Marco non fa più lo stesso danno bella Gianluca devo usare la blix Zio Ma non aspetta però zio c'è non lo so se ti sei abituato tanto con la Marco zio usa la Marco E mi sono abituato ma sto vedendo che non è più come la blixen di nuovo hanno fatto qualcosa Credi l'ho noto subito L'h4 io purtroppo non lo so mai non fatto Mori però con l'h4 vediamo che succede se a cappo tutti vuol dire che sti pezzi di fango senza dire niente hanno fatto qualcosa Ma è così Ecco come l'ho fatto in quelle 23 kg raga La verità è che c'ha la blixen cittata Andiamo a control Turutututu Maggio e Quando mi cadi un mezzo Sì sto invecchiando Sto invecchiando Così sono figuracce capisci And Oh Annaccia Oh che ti salgono Mi salgono Guarda lì che è successo Oh chi è il bomba Alla carmi ragazzi per il collo Oh lascia brava Lascia mi un'arma brava Dove è tutto questo 3ardino di qua Oh lascia mi una piastra Che vuoi La piastra No E il mio testo Oh ma quello dove si è impilato Porco di quel porco L'ho lasciato one shot Oh no brodi Addio sei morto No Ma però sono in 10 cifra Sono in 10 cifra Sono in 10 cifra Cosa sta succedendo raga Sono impazziti Ma che vuole sta gente bro Non mi ha fatto perdere manco la mitraglietta da terra Ma come è possibile che non ho trovato ancora una mitraglietta contro il fra Io l'ho trovata Io l'ho trovata La pigli una però Guarda me Ok l'ho trovata a posto E' gente dall'altro Oh la me la me la me Dietro di me Sono due però Eh ho preso tre Oh ma che è successo Ho provato a ridarti bro Ti ho appena visto che arrivava il tester Pure senza piastre Ma come si fa Come si fa Come si fa Ne spari uno Ne arrivano tre Oh questo vedi Questo adesso riconosco Questo è il lobby C'è la marco e il type Il type è pure carino Scusa il me Oh mio Vado qua Vado blu Ma vabbè c'è ancora gente che si sta capendo niente sotto Ciao Raga ho fatto Ho fatto il camperone dei camperoni Il gamberone dello sgamberone I need armor Because there is Enemy here Niente Ho fatto la buttata I don't see nothing Fammi vedere 27 metri Qua è possibile Scendo solo da Oddio sono tutti al lato destro Ah ma sono in volo Sono in volo Bello sono Tony Ciao sono Tony Ciao sono Tony C'è uno da Max and Johnny 5 metri sopra di noi 5 metri Sopra di noi Guardate dov'è Questa partita proprio non la sto giocando Con qualche quella trotta Niente Perdo scammare Oh c'è un altro Tranquillo amico Eh invece Ma di vuoi scammarmi le storie Ma di che C'è solo io Hai capito Con chi stai giocando Sti copero Stai male Addosso Boom The bang Schiaffi Destra Sinistra Si vola Poi con i francesi Soprattutto Comunque Quale roba olandese Fra si è capitato Contro i francesi Stanno le baguette Attenzione E' vero eh Quei due erano francesi Mi dissocio da questa cosa Che ti devi dissociare Si stanno le baguette Che stanno sul tetto Facciamo un push azzardato Eh no vabbè No frate Questo adesso Mamma mia Come Lo smonto No lo smonto E invece Non lo smonto più Perché è scappato Mi sa E' andato da qua Stà alla mia sinistra Ho fatto il giro io Ce l'hai Ce l'hai Sopra o sotto Non ci sta qua Non è possibile Fra che poi ne ha sparato Dalla Fuori Qua fuori Vabbè Mi sto rincoglionendo Ma dove sta scappando Che da tre orco Lo inseguiamo Dimmi che c'ha Non ce le piace Fuori 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 qua Fuori fuori No pure sopra Pure sopra La Sopra le scale Le scale Sono senza piastro Oh ma ha seguito dietro Ma ha seguito dietro Arrivo Tony Eh Sì ancora Oh non mi chiamo Tony Stark Oh è arrivato un altro Eh vabbè Un po' di quel discord Eh vabbè frate Eh vabbè No way No way Bro You are the last one Bro Don't 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 Quanto stiamo 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 vincendo noi Però mi sa Sì Se fosse Wager Stiamo vincendo noi Di due kill Non sto killando Bro E non killare Fa male killare Zio Ma riesco a mettere dentro Un cazzo di colpo In general Oh ma Ma non Ma vi sto dando Una mano Sì Eh vabbè Oddio Però ho fatto una kill Qua Sai che sei morto eh Abbastanza Oh finalmente Quello si è killato Scars Ma è tutto Se non mi da Se non mi da Le piastre Cioè io vorrei Una piastra Non dico tre Me ne basta una Fra Allora la devo comprare Che cazzo Dobbiamo Kill col cecco A terra Il francese Che ho salvato L'amico nostro Un verdino Oh D'aglio Oh Ander Però il problema Che sono tre Eh Eh Pure la grata Riuscito a tirarmi Dov'è che sono Lì Sopra Mi sa sopra Brody Vai Uno a terra Brody Treta Fatto Leida Easy Oh ma ho preso sta cosa Ma quanto vado veloce Z Ma che è Cosa che hai preso Guarda qua Ma che è Come è settata Oh Mi ha imbazzito Mi ha imbazzito il personaggio Cosa hai preso Ho preso una marco da terra Ma sono diventato velocissimo Fra C'hai cheat sopra Fa vedere Cosa hai preso Una marco Una marco da terra Ma è settata Che mi va velocissimo Il personaggio Pronto Pronto Ma c'è Fausto Con le bombole Dell'ossigeno Io puoi scioccare Amico al Brody Sono morto Oh No Chi l'ha visto Hai visto dove sono Alle torre Però lì non è cosa Madonna mia No niente No niente fra Ho C'ha sbagliato il pick Andovi a pushar L'adietro Fra c'è pure uno Sulla torre No no Lo potevo fare Lo potevo fare Eh vabbè ma Non c'entra Eh no Erano di spalle Mi devono di spalle Due free kill Mi ha salito il muretto Quando non doveva salermi Non doveva salermi il muretto Tutto qua E mo Eh mo la vinci zio La clutch E il cazzo Restami Restami Dai fuori Oh What the I'm coming bro I'm coming Come here Come here Niente Perché non si è buttato Lo so solo Però vabbè Ci sono le armi sue Di quello che è morto qua Eh Le armi sue Non lo so Sì 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 C'è gente C'è gente La terra 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 No Ti viene a pia Le armi del francese qua Arrivo arrivo Dov'è che l'hai uccisa? Dov'è 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 Qui sulle scalette Possiamo restare Non ci sono più Resta ne uno Sennò se ingazza Devo sentire Salito sopra Mi sa Ma che brutta è Sto H4 Tra Poi resta Che se no Impazzisce Dove resta lui Sì È lui Che c'ha i soldi Ah Ok Stai su Stai su Stai su No Crackatissimo Qua L'altra È velocissima sta Marco Non so come è settata Ma è velocissima Non ci credo frate Mi si è messa la mia Fatta l'animazione Della maschera Ma io non ci credo Porca troia Attenzione Un lupo che la Claccia Non lo so C'ha l'altezza Zio Non c'ho l'altezza Sta sopra di me Hai la bolla di sapone Zio Mi metto la bolla Dai qua dietro Mi sta tossendo Fai un pic Fai un pic Buono Eh me l'ha pingata All'ultimo E vabbè Ma Che ne sapevo io Che fatica Che fatica Signori Che fatica Mamma mia Uno si deve gioca Si deve gioca Le chiavi di casa Bella amici Buonasera Mamma mia Non esistono più Quei giochi dove Dove ti mettevi Spaparanzato così E giocavi Anche con i piedi Sono tutto scassato Aiuto Allora Chi è che l'host Del most qua Chi è Rolanda Ah ma non hai fatto GG Non l'hai fatto vedere Ma è pezzo di fango L'ho fatto vedere Nella mia live Ho fatto start Tutto l'elicottero Tutti hanno visto Ma vaffamai Di me con meno danni Ricordiamolo signori Allora Zio ci sono pure due Del mio team Dai l'invito Poi al caso Noi comunque facciamo Un po' di 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 Wagers Anzi Facciamo magari Wager con loro Ci alleniamo Vai vai Allora Allora Un attimo Non lo trovo Come devo fare Come devo fare Non lo trovo Buon figlio Eh non me lo fa invitare dal Aspetta Mi ha invitato lui Andiamo da lui Dai ti invito di là Uh lobby tra gli anni Vai Vai lobby italiane Ma lobby italiane Con le bestiemi Eccoci qua Ma va Prondo Prondo Cosa C'è pure questo amico mio Fra che l'avevo scritto Appena mi hai detto Cosa a qualcuno Eh ma tu hai detto Siamo due Eh ho capito Il lupo raga Mi ha scaricato già Vado a fare No 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 Sto chiedendo un attimo Che devi fa Scherzo Tra Tex Ci sei Cosa Sì 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 Eh dico Siete due Tre Ah no Io ho scritto a king bro Noi eravamo due Niente Vabbè E caso ci becchiamo dopo Con chi sei Sono con Livius Ok Ciao ragazzi Vabbè niente A dopo Ciao Prondo Eh no invitami Invitami Fra Eh ma scritto che erano due Invece poi sono diventati tre Vabbè Eh invitami Arrivo Eh niente Eh niente Posto scammato Signori Posto scammato Ci hanno scammato il posto Dall'altro lato Allora Battiti la live Cos'è battiti la live Aspetta Battiti la live Ti hanno ospitato Che è battiti la live Sono dei pdf Hanno invitato Antonacci Che ha 80 anni E non te con del mi Ah è un concerto No mi disso No Aspetta Mi dissocio Mi dissocio Ma Ma che roba era Io non l'ho mai sentito Cioè so che ho capito Che è un concerto Però non l'avevo mai sentito Che evento è Dove si tiene Potresti giocare Per la pesca Certo Basta che non si No no Io gioco La pesca Di Livius Per la pesca Degli altri Poi quello che succede Succede Poi non lo so Quello che succede Come va Non c'è male Sono un po' stanco Stasera Un po' cotto Bella Andrea Buonasera Sono un po' Stanchetto Infatti mi sa che Una o due partite Vado perché Non me reggo Non me reggo proprio Vado a riposare Magari un po' prima Oggi Che ha scritto qua Che è successo Stacco un po' prima Magari stasera E poi Ci ribecchiamo domani Magari ecco domani Se potrei 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 Esco Vado a parlare Dicevo Magari domani Ecco se vado a dormire Prima stasera Si può provare Nel pomeriggio Ora di pranzo A tornare in live Oppure andiamo tutti A battiti live Lasciami stare Che lo stavo facendo io Sono ragazzi Ma che ne sai Ma che dobbiamo fare Con sti festival bar Al massimo Vado al bar E faccio lì Il festival Ma quando fai i concerti Ma quando fai i concerti Dopo lo inviti Ivano Chi è Ivano? Come No raga Qualcuno della chat Il lupo Può spiegare al lupo Chi è Ivano? Chi è Ivano? Qualcuno glielo può dire No dimmi Vuol darsi che lo conosco Però Depende a chi ti riferisce No no raga Fidati Fidati Lo scoprirai dalla chat Chi è Ivano? Buonasera Alessandra Chi è Ivano? Signori Ah eri tu? Si si eri tu In squadra ieri Si si Eravamo in squadra Aia Aia Pronto? Pronto Buonasera Mattia Chi è sto Ivano bro? Dimmelo mo Eh ma non Non posso spiegare parole Fra? Spiega Non so come spiegare E' un vocalist Ma No Ma chi è Ivano Zazzaroni? Dove andiamo? Vabbè che te lo dico a fa contro No Scusa bro li sono caduti in ritardo Dove vuoi dove vuoi E vaffanbaglio E no ormai è tardi Non è mai tardi Per regnare E' tardi No No bravo Eeeh mi hanno usciuto Oh Grazie a tutti Avete un dick toger? Adesso mi avrebbe Oh Che cazzo significa? Che cazzo significa? Oh Mannaggia Mannaggia Non c'è credo Fra prima mi ha tirato una cosa addosso Penso la bazookata Poi mi hanno seguito per tre ore Qua io Buona sega Buona sega Adriano Buona sega Oh Ancora lui Ti ha ucciso Basta Basta Con sto dick tog Ah oggi Proposto Mi ha risposto una radio Signore Ho mandato un po' di email alle radio Mi ha risposto Radio Bruno Bro Eh Però ha detto che Purtroppo Nelle loro playlist radiofoniche Tell me Non andava Non era il loro genere Non era il loro genere Non era il loro genere Eh Ma non sai com'è Qua in Italia Siamo un po' di tradizioni Eh Ci sono veramente Poche poche radio italiane Che passano la musica Il genere che faccio io E' un genere più Che va all'estero Però a meno ha risposto Se eri lupo Bruno Ti accettavo Lo vedi so Oh è che Oh Mannaggia Mannaggia discord Zia E prendi Stop discord Ma io come faccio A concentrarmi Buono Ehi l'hai fatto Dicevo No L'unica cosa Cioè dicevo Ci sono due Tre radio Che passano Con la musica La musica La musica La di Biza Radio 105 E E Un'altra che non mi ricordo il nome E forse radio DJ Un gasio Tramonte Un gasco Non E Guardava Mamma So quanto Oltra la morte No vabbè Ma andiamo via Da qua Non c'è più nessuno Ma dove sei tu? Un grande Mi fa sempre ridere Mannaggia tutto sono preso zio si ma si è disturbato non ti vedo sono disturbato è quello che stasera può darsi che sono un po disturbato arriva amico ti salverò da ancora lui il tiktoker cosa spari sul cavallo dai fatevi sto tiktoker a cercare su tiktoker e lo insulto facebook viene chiaro da tiktok comunque ivano libero mi scrivono in chat vanno libero se posso sapere che si va chiesto ivano bro ivano è l'addetto alla sicurezza che fa le facce a quelli vanno avare il primo che deve stare per forza a fianco a me sopra al palco ecco questo volevo sentire fra come ti senti dopo questa vittoria stiamo perdendo la wager credo che sta partita abbiamo poche kill fra come stanno facendo piaciando al 20 per cento zio ho sparato a 1 per 3 anni dove è finito porco di io basta c'è farmi da dietro sì 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 ancora il team del tiktoker no non ci credo mi ha fatto più il tiktoker eh l'hanno killato adesso non me l'hanno confermato allora 38 che cosa 38 kg è tenato appena il bambino con 38 kg un armadio faceva palestra nella pancia aveva montato un po' di pesi prendevi il mass gainer quando 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 arrivava il cibo lui non lo mangiava nello stomaco ci faceva i bicipiti no chi me l'ha fatto è uno dei fedeli basta basta andate a casa a mangiarvi le patatine sul divano guardate vai guardate vai 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 tu a blix Non ci credo Mi ha scavalcato il muretto Porca di quella Puzzazza Puzzetta Eh sì Ma che non ho fatto in battito Organizzammo le vendite Tu voglia Mi vuoi Eglielo No 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 Sono tornato Io voglio andare A San Masara Basta Uso la Blix Nezio Non lo so Mi killano sempre con la Blix Ultimamente La Marco perde Il serpentino Tannaggia Confermo che la Blix N'è più forte della Marco Adesso Ho vinto un fight Qua Se avevo la Marco Ah mio Se avevo la Marco Qua Il fight Non si vinceva One shot One shot erano tutto Dopo mi piastro Un nemico lì davanti Perché sono perdito dati Il serpente Il serpente Quando hanno messo La cosa del serpente La specialità del serpente Gli spari 40 colpi Non vanno a terra Perché c'hanno il serpente No Stavo con la primaria Che culo No Ma non volevo farlo Cosa Niente Mi ha preso il cavo Mi ha preso il Il cavo Il cavo Del Lì Del boccione Io stavo cercando Di luttare a terra Ma ha preso il cavo Vabbè GG a lui Non mi ha fatto prendere Manco Le cose qua Lebron James Non è andato stavolta Lebron James No frate ci sono le mine Ma è un amico Un amico Un amico Quello Oh No C'è sta un altro Dentro Oh Me l'ha pingato No Me l'ha Pingato Comunque dicevo Eh non bene Non bene Non bene Non è non bene Ieri era andato bene Però ieri eravamo Pure un altro team Eravamo il team Fisso Con cui gioco sempre Don't rest Io non ci credo Guarda se mi fanno morire Eh può darsi Guarda Dici che ti fanno Qui si giocava Una palla a volo Con la maschera Stava facendo il mercato nero Lizio Il mercato nero Eh capoccioni Sta a fare I capoccioni Anche adesso Ah 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 Ma però Mi fanno male le gambe Eh tu ridi Eh sì Io ho fatto un allenamento Dopo vi dico una cosa Quando finisci la partita Guarda il secondo me Si ammazza da delle risate Wow Adesso vi dico Come si chiama Il tizio Dalla quale Sto prendendo Dispirazione E mi sto allenando Eh va bene Ma io apro Tiktok Why Ma Ma io non posso Vedere così Però apro Tiktok Per vedere un'altra cosa Guarda Chi cazzo Allora Ah dico Uuuuh Uh bella questa arma fra mi piace non l'ho visto ecco ma lo stavo dicendo allora però io mi sto allenando mi sto allenando sei sempre tu l'host riccardo io mi sto allenando tramite gilbert nana nana drogba mi sto allenando tramite con nana drogba non puoi capire mi sono scritto in privato zi lui ogni volta a ora di pranzo fai allenamenti io li faccio insieme a lui con nana drogba mi ha fatto spaccare le gambe no ma io ve lo devo far sentire parlare perché voi non capite voi non capite cioè io mi sono sciattato dalle risate zio quando mi ha mi ha mandato il vocale dov'è dov'è eccolo qua aspetta che aveva detto qua c'è di boh ascoltami bene ci ho mandato due foto la prima foto è uno schiere d'allenamento si ci guardi bene ci vorrà che c'è 9 posti ogni posti è guarda un video d'allenamento e ogni video lavoro una parte del nostro corpo tutte queste 9 video se tu vuoi dentro questo profilo sotto drogba nana drogba 11 questo profilo è il primo profilo che loro mi hanno bloccato vai dentro questo profilo cerchi di registrare tutte queste 9 video che c'è dentro e c'è che devo fare massimo 5 volte alla settimana 5 volte alla settimana ci vuoi allenare con questo 9 video e prendi una giornata della settimana con un vai allenamento vai e mi fai 10 km di corsetto corsetto senza forzare 10 km tutte le settimane 10 km 10 km da corsetta 10 km da corsetta no signore a me mi fa spaccare quando fai a me mi fa spaccare quando parla mi ha mandato sto messaggio wow sto piangendo non giuro sto piangendo no mi sa si che forse è di origini francesi credo eh credo che sia di origini francesi ah vero mi dispiace che ha detto l'ho mutato l'ho mutato l'ho mutato l'ho mutato è così qua ci affidiamo ai francesi per prestazioni fisiche se se si ma lui è di no però perché 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 lui è di di colore eh no cioè c'ha c'ha le prestazioni fisiche capito è francese ma è anche quindi c'ha c'ha la spinta buonasera immortale buonasera e quindi mi deve far uscire spaccato no mi dissocio da francesco pirozi mi ha pingato questo io lo seguo pure ero convinto fossi tu oddio tre per tre per che hai fatto il che stavi giocando il clash oh no porca la puttana che culo dai tu vai a bottare io ho avuto una tripla oh è chi è vabbè ma non si sentono gli spaccimma dei passi dietro chi ha pubblicato un video io ho pubblicato il video si si era lei era lei alla fine si si solo che il problema è che è successo io sono andato a vedere dopo che era lei perché poi in chat mi hanno scritto vedi che hai beccato violet ma lei si è straincazzata e ti vuole ti vuole bloccare ho detto cosa e quindi sono andato a vedere dopo quando ho finito la live sono andato a vedere però forse non ha non ha capito cioè non so perché pure i moderatori hanno detto è lui è lui ci sta guardando cioè lei addirittura andava a vedere se stavo guardando la live su twitch azi ma noi eravamo qua in live eravamo eravamo qua in live eravamo più di 100 di noi ci stavamo allenando perché teniamo il torneo il giorno dopo io c'ho un pezzo di video che mi son salvato mio dalla live dove dico frati ha killato violet perché violet aveva killato lui del mio team ma ti ha killato violet fa lui no non è lei non penso non può essere ciò bofra il nome sembra che è il suo poi dopo l'ho killata io e faccio guarda che è lei sicuro poi dopo andiamo a vedere gli faccio secondo me è lei lei si credeva che stessimo stream sliverando ma faccio tutto bene qua stiamo a lavorare venga se li potrai guardare a te basta così ti tocca ma erano quattro mannaggia mannaggia le lobby in olanda ma perché è andato a morire ma perché sono dei pezzi di discoteca questi qua è andato non bene fra stasera non bene quello di ieri è andato bene io mi dissocio però dice che sono l'assista verso i napoletani e lo può dirgli qualcosa prova prova a prova a cercare questo video fra chi cazzo l'ha pubblicato questo video bro si prova a cercare questo video che vado la spacco tutto entro spacco butto tramonte in mezzo che così fa danni e me ne vengo via no aspetta stiamo ancora parlando del fatto che è successo con violet bro io c'ho i video salvati del vot dove dove c'è lei che ammazzano del mio team che poi lei ha detto è la seconda partita ma noi una partita l'abbiamo beccata una partita l'abbiamo beccata almeno io mi ricordo che è stata solo quella lì dove lei si è incazzata io in quella mi ricordo che l'ho beccata perché io lei killa uno killa coga del mio team e faccio ma io ho letto leggo il nome faccio I'm Violet oh ma ho tacchilato I'm Violet è lei e lui fa pure no non è lei faccio boh fra il nome è quello però va va coso boh vabbè continuiamo a fare la nostra partita ci facciamo i cazzi nostri fin quando io faccio divine ci sono tre su prison andiamo a pushare se attendo saliamo su prison pushiamo digli che lo banno pro challenge 15 kill personale più win abbiamo la challenge abbiamo la challenge abbiamo la challenge 15 kill personale più win proviamo vai 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 due possibilità di Alessandro grande Alessandro vai 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 bomba per te un po' di banane se vuoi te le faccio mandare da nanà legale piro illegale cioè non lo so oh control prego control usa la tattica della nave io uso la tattica di nanna drogba gli do la baguetta no mi so c'è eh sera bus oh ma che è successo no frate ha fatto solo l'head questo anzi io vorrei capire cosa è successo qua mi sono a guardare la live fatemi capire non ci credo io no io non ci credo frate ma sono carterati fermi non entrare in quella porta non entrare in quella porta mi sembra un film horror oh oh rompita frate ma te l'ho detto frate te l'ho detto frate te l'ho detto te l'ho detto Cioè sembrava Sembra Sembra No dai perde la prima Fra c'è l'ultima possibilità non ci credo Vabbè mi ripreso Non ci credo Vabbè ma perdere così Col film horror dentro Revert dentro Condro Non aprire quella porta Attenzione anche io c'è una challenge Bro 25k con i cazzotti 10 sub Sì vabbè digli che fai prima A vendere il c***o Devo fare la clip Giovanni fai la clip Non aprire quella porta Non aprire quella porta Ma perché che succede M***a bro di Mannaggia che non mi ascoltare Neanche nelle pubbliche mi ascoltate Vabbè ma Io non ho aperto la porta Era già aperta Io mi sono rimasto là Ha aperto lui la porta Mamma mia Tratto Tratto dal film Togli la sicura La mitraglia Vabbè ci li Oh fra dai dai C'ho la challenge Non mi morire fra Frate io Allora Se io entro nella porta Eh frate ma se entro nella porta Una porta Ci sono 20 persone dentro Come fanno a stare Ciao Alberto Sì Oltre Sia lo streamer Che produttore musicale Sbarra artista Sbarra port star No No ci manca No manca che apro F però mi dissocio Oh grazie al forno benvenuto Con la mollica o senza Musica profonda Nuovo film di Ennio Anni Come come mi piace ignorare Allora dai dai Facciamo questa sfida Ultima voxibili No da misuri Vediamo quant'altre persone Mi devono Guarda io muoio Solo perché mi fanno Il back a me No Vai Vero Oh 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 E' una meggiudra Vero Di Questa Ho E' No 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 Ha ha Ancora dick tocco bro Dove ho detto che l'hanno Così però non hai capito Ma cosa quello l'avevo messo a terra Dai che devo fare 15 kill Ah già mi sei Let's go bro No non è tornare Adesso siamo in pubblico e c'ho una challenge La nuova season è bro Dovrebbe uscire fino agosto mi sa inizio settembre Ma c'è una nuova season Sì l'ultima Eh c'è un Era un pazzo zio Col bazooka fra voleva bazookarmi Ti bazooko tutto ti bazooko Eh ma hanno anche il lato l'oro Dai dai facciamo il lancio Te prego te prego prima che mangarmi Eh brodi Eeeh che ci faccio Eh che ci faccio Vai a fare i kill brodi Hanno sparato da dietro Buono cotto cotto Dai gli soldi a sto Dai gli soldi a sto tizio Dammi i soldi tu Oh give me the money Give me the money Eh, chi si mi ha lasciato gli spiccioli Le lemosi Yeah Oh Dechi te biva Me l'ha dato finalmente Non me lo prendete Let's go In the middle way In the middle west When I was young Che c'è Devo arrivare a 15 Poi mi fa pure la vittoria Vabbè la vittoria non è un problema Eh, un cacchio C'è successo Guarda chi lo ha saluto Assurdo Sto morendo pure io bro Brodi Brodi Sono morto pure io Sono morto pure io No, no, no Mannaggia tutto Managgia tutto Sono dalle spalle Porco Ok, io ci sono Dopo 10 kill Sono morto No, 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 no No, no, no No, no Come lo picco che c'è il muro davanti Sono con te Sono con te Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, devi far kill Vai Vai zio Vai, 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 vai Non ho sento niente È in fondo, è in fondo, è in fondo Ho capito Ma c'è 5 kill se fanno Dobbiamo vincere la partita Dobbiamo morire Che questi se fanno ammazzare Sti due zio Cominciamo a fare 5 kill Poi cominciamo a vincere la partita Prendiamo la partita La parte più noiosa Un po' di blocca Oh serpentina Oh serpentina Oh È il più forte del mondo Ecco qua L'ho detto Non dobbiamo morire È te Siamo morti È lui Non dobbiamo morire È te Siamo morti È te Male stasera Francesca Ieri era andato bene Abbiamo vinto Stasera No Te prego Resta qua Non ti muovi Diventa proprio il pavimento Ecco I brividi All'unlock tool Come è possibile Ah sì Stiamo giocando con uno Che ha usato La look The tool Sto contento Oh è qua è atterrato Raga È atterrato dove? Oh Comunque quelli di aprì sono Belli cattivi E vanno tolti dalla lobby Come cazzo facciamo? No chissà Chi mi ha chiudito la porta dietro Stori Oh ero io Bastardo La porta si chiude sempre Fra ma sono io fuori Mi chiudi la porta Eh sì Ecco me entro Eh zio Eh zio La sbatti Che cazzo di me Non è stata una roba Levati Levati Che io so sparare Tu non sai sparare Togliti Oh mi dissocio Da questo bullismo Ma questo c'ha la look tool Ma ti rendi conto Io li pucio quelli forti Zio li wipe Al massimo Secondo me prendiamo Il biscottone Vai tra Vai tra Ci sono Non mi hanno visto Non mi hanno visto Ma che sono ancora sul tetto Ah l'ho visto L'ho visto Sono morto Sono morto E invece te l'ho messo a terra Però Frizzi Pall'acqua E' morto Craccato Si Craccato Te lo dichi la C'era stato il mio C'era stato il mio Sono rotto Di quel disco Ma questo Fra Non lo so se è legit Ah Fra Ma questo Cheitta Bruto C'è uno che Cheitta Zio Uno di loro Cheitta Eh te l'ho detto Funziona Se faccio così Si scarica L'incazzatura Che vorrei Spaccare qualcosa Dai Nella partita Della challenge C'è il cheat Che becca tutto in testa Sono stanchissimo Mi sto muovendo Come un botone Però è botto È botto Quello lì Cheitta Ma è bottazzo Eh Se non mi ricordo il nome Quello va bloccato E' segnalato Comunque Eh ma il problema Rimane Come lo uccidiamo Può essere bot Quanto vuole Ma se è Bot è bot Se ti metti dietro Se ti metti dietro a uno Spottino Lui non ti riesce a prendere Lo killi Zio È botto Mi ha visto zio Hanno avuto l'acni Sank Eh Ripeto Tanto lui Convinto che ti killa Perché c'ha i cheat Prende il biscotto Non mai il biscotto L'ho prendo io No fra è scarso Sì è scarso proprio Credimi Col cheat che c'ha lui Si potrebbe spara Trenta bombe Sta partita Invece è botto proprio Ha paura a scendere Fra Dobbiamo vincere Di posizione Allora Ma poi sta facendo Ha pure paura Di essere sgamato Sta facendo finta Di non usarli Ma ma gioco avvicini Comunque Stavamo usciti Mi arrivano Mi arrivano Sopra 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 Gli altri due Sono soppato Oh Mi ha arrivato Oh No Non ti copri Mi prego da farmi urire Sto moco No No Eh zio Come te copro Non c'ho le armi Arrivata Team Team Scam Un altro qua Un altro qua Bravo 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 Guarda me Guarda me Non vieni Sono 6 Sono 6 Mi killano Mincazzo Te lo giuro Ti carico io Ti carico io Non è che pure Gli amici nostri Scutano Si Zio Non hai fatto 15 kill Ehi Ti sto a 11 16 persone in vita Madonna mia A mettere l'ansia Eh L'ha presa Non so chi l'ha presa Dai Puccia quelli Pucciamo quelli Sotto Sotto Sì Dove sei tu Dai uno fatto L'altro E' dentro Dietro Arriva dietro Livius L'altro Sei restato il mio Sei restato il mio Non c'è C'è Non c'è Non c'è Non mi ha dato la kill Non mi ha dato la kill Arrivo Arrivo La fai La fai Tranquilla Ci sei Ma come faccio Zì Che mi servono 4 kill Easy Le fai Le fai Devono rientrare Questi Ma rientrano che è finito Il rientro Ah è finito il rientro Ma da ora che è finito il rientro Però Teoria ce stanno Le devo fare tutte io Praticamente Dai dai Sai Io gli sparo E tu li ammazzo Ok Vado a pushare male Così tu li tradi Sono in fondissimo Eh invece no Fa qua E questo è il cheater Questo è il cheater Oh mio dio È il team del cheater No no si deve rifare zio Si deve rifare Allora È il team del cheater 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 Due palle Due palle Questo è per te Gabriele Niente Riproviamo Io vado a letto Dai 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 Fanno un'altra Dai L'ultima 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 zio Peccato Wanna go Wanna go Wanna walk and walk and walk and walk Ah però non vale col cheater Oh aspetta Ma va bloccato quello Sennò ce lo becchiamo un'altra volta Come si chiama Eh non mi ricordo come si chiama Anmeno io Uno si chiamava Duddy L'amico Ma Cioè quel Duddy era pulito Era l'amico Però nel caso K' Vabbè facciamo uno così Io blocco Duddy così tanto è lui che gioca con quelli Michelangelo Ma vaffanbaglio Alessandro come Ma come Eh bro dai siamo in partita Facciamo Anzi no aspetta 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 Ma quanti siete a donare Ma sei da solo Però se esci c'è pure text Aspetta 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 Facciamo le Modo invito Modo invito Eh c'è text Ma quindi posso andare l'estero? No 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 Perchè? Ah è solo è solo No no Fatte l'ultima interseptia La lupo si chiamava Gustavo l'altro scitere Gustavo Gustavo Oh ho sbagliato a leggere Giustago 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 Era Genzega Mo lo blocco insieme a quello la del Egitto Giustago Non lo so Ma l'opo Bro è bello Madre Quando è che abbiamo la wager luco? Domenica Perchè così lontano? Eh siamo usciti così Dova domenica E poi quando rigiochiamo? E poi rigiochiamo Bro Quando finiscono tutti Passiamo Passiamo Comunque Alessandro Fai un'altra sfida con 500 Andiate le devo far perdere 6 stelle Buon lavoro Adriano Guardate Devo far perdere 6 stelle Mi piace scendere Oh Non mi selezionava la glass Oh Ucciderò Wow Questa è stata Con la doppia marco in mano Che ha combinato In volo Minchina Che cazzo Ma io do a sonno Se il lupo non mi fa andare a letto Tra due secondi Giuro che Non so cosa faccio Che fai? Che fai? Che fai la notturna? Ma va che notturna bro Facciamo after Facciato oggi l'esercizio No vabbè L'ultimissima Mi ha fatto 20 kill Più 20 kill Più win Ha raddoppiato però Mille stelle Vai 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 Ci provo Come va va O la va O la spacca No devo fare una puzzetta 25 kill Con scude RPG E' abortito Quindi mi Mi carri tu Posto che Si spera Dipende bro Dai Di prima Se ne facevano tante Cazzo Forse ci arrivavo pure a 20 Se non c'era quel cilio Guarda che lo fa rilanzare E' qualcosa Mi serve l'arma Devo fare kill Non è che lo faccio rialzare Stavo prendendo l'armi Scherzo bro Ragazzi Ragazzi La gente che sa No Devo fare una puzzetta Lasciamo no Lasciamo no Eh scusami Eh ragione Hai ragione Scusami Eh se stai vicino Adesso Se mi stai vicino Però me li devi chiamare Un po' prima Oh No Minchia Lo mi sono accorto Lo mi sono reso conto Aiuto Niente Più di 500 Pure Michele si aggiunge Madonna ragazzi Madonna Dai 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 Quanto sto a due No Che 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 20 kill Oh mio dio No 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 Quanto è passato Una Solo questa Tranquillo Luco Usa la tante Ma quanta gente è arrivata qua Dove si è messo Frate Businessman No Tex Si era messo In un posto Io ero Quello Eri tu Eh la lampa Lo dici Si ero Io Oh no Oh no Oh no Oh Ah B B C Cosa volevi essere Dai devo Fillarmi quel team Di là Non riesco Stanno tutti fermi Oh vabbè Raga Non prendere Non prendere L'ho dato Perché Io l'ho già preso Per me Posso dire che godo un po' No raga Mi ha fatto un wallbang Sono safe Ma dove ti sta sparando Ma che facchia ne so Sono safe Sono safe Sono safe Sta bruciando Sta bruciando E' so le saghe qui Dai sto ritardando Le kill Bro Per colpa di questi Ma infatti Vai a push All'altra parte La nave Stanno troppo Camperati Me ne vado Me ne vado Però l'ho messo La terra Dai vado a fare Un po' Di kill Dai Non sto capendo Sì Mi sparano Da tutt'altra parte Guarda qua No vabbè Vabbè Che schifo di gioco Non ha senso Non ha senso Fra Sono morto dentro la casa Col bombardamento Ah ok Quello è un bug Va Va Vabbè Ma questi sono tutti sopra Ma doveva far cosa Mi chiedo io Cioè Non far niente Fra Ma guarda Non ero pronto Ma cosa fai Ma che cosa fai Ma da lì che sono Camperati in 14 Dentro una casetta piccola Com'è la situa contro Brutta No Eh dai Dai Scusa Do di Tantina quanta gente c'è Oh, c'è una schifezza il lancio qua Oh, 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 che ne so I bassi Sono tutti a controllo a sparare No, muore What? Lì, c'è uno col quaderno What? Sì, sta succedendo di tutto No, ma grazie, grazie per l'aiuto Guarda questo col quad qua dentro, guarda È quello che ti dicevo Eh, mo, come... Non lo so, non lo so Apri, apri, sta... Guarda, guarda Non ce la faccio, non ce la faccio più C'è ancora gente, c'è ancora gente Rudy! Rudy! No, va bene, RPG da sopra R, RPG da sopra Entra, entro, entro, entro! Vai via, vai via, che devo chiudere la porta Ma c'è il bomber da lì Oh, saldo col quadro Guarda dentro, guarda dentro, guarda dentro, brody Un altro, un altro Bruny! È impazzito Ma cosa sta succedendo? No, questo con lo scudo, no, questo con lo scudo Meno male, anche ho salvato che gli stava facendo una mossa finale Sto male Regà è un manicomio sta partita Guarda, 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 è morto da solo È morto da solo Manco la gimme ha andato Re Aussie Brory, ma- Brory, mi spieghi che cacchio si accende Aiuto Ghere l'esplosione Qua, qua, qua Qua qua, qua qua, sono tonto! Qua qua, sono tonto! Non ci credo sia appena giusto la 6! Eh, rientro, rientro, rientro! Davo, ho 20 kill! Buono! Hai fatto più per me! Dai, sono triste, potevo fare 20.000 bombe! Guarda questo! Eh, niente là, che è finita qua! Allora... Uè, buonasera! Federico, buonasera! Bella, Paolo! Eh, com'è, com'è! È tosta, è tosta, però è tosta! Non sono mezzo stanco! Quando è? 3 ore e mezza che stiamo a giocare? Eeeeee... No, questa è impossibile! Oh! Mamma mia, che macello c'è! Eeeeee... Sì, sì, mi ha chiesto Livius con Tony di giocare con loro, sono andato a giocare con loro! Ma, regà, è una partita stranissima, non ci ho capito nulla io! Cioè, ve lo giuro! Non lo so che gli... che gli è preso il... io non so cosa gli ho... Per il casino di contro lacrime di gioia, lacrime di gioia! No, non la può mai vincere, è impossibile Alessandro, è impossibile! Grazie per le 100 stelle per il casino a... Oddio! Per il casino a... Oddio! 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 Che cazzo sto vedendo? La piasta, la piasta! No, no, ti è salito sopra! Eh, è salito dalla scaletta, va l'ultimo, peccato! Guarda lì lì l'hai messo pure a terra col bomba! Mi hai fatti col bomba! Guarda ragazzi, dalle ki! Belli i tiktoker, regà! Raga, io non ce l'ho visto in contro, ma ti pernò fatti 15 solo contro! Guarda, guarda, le tartaruga ninja sono rimaste! Cosa? Prodi, Abuze, Aizir, R Power Rangers, brah! Ma che lobby, raga? Gun! Non ha senso sta lobby! Fin sta lobby mi sento appagato e posso andare a letto, mi spiace! Addio amici! Che cosa ho visto là? Fra quello continuavo a fare a destra e sinistra, a destra e sinistra! Continuavo a fare avanti e indietro, avanti e dietro là nella tenda, non sapeva che doveva fare! Amico io vado a letto! Ci sta, ci sta, io l'ultima mi sa che faccio, faccio ultima! Dai dai! Vabbè fammelo a tutti, fammelo a tutti allora lui! Eh, fai l'ultima e vado pure io! No, non ce la faccio! Dai dai, fai l'ultima, pure io, pure l'ultima! No, mi avevi detto che l'ultima piccola di prima! L'ultima, questa è l'ultima, brah, questa è l'ultima! Ma perché avevamo la challenge questa, è l'ultima! Adesso faccio 30 bombe! Faccio 30 bombe, io faccio 30, 30 b-b-b-b-b-b-s! Ughh... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lo so, lo so, quella partita lì era la giusta. Era partito bene, era la lobby in cui ci saremmo riusciti. Peccato, le giocatori giustamente uccisi dal cipro. Gunner verrà presto mutato. Ma chi è? Ma non è italiano. Gunner? Assasciaffaffanculo vai. Mi ha mutato. Buonasera Gianluca. Detto anche g***o di ferro. Ecco così, così si chiama e non è colpa mia. Oh, lupo, sono mi fai meno venti bombi sul game. Oh, io, appena finisci la prima di spingare, ok? Controli. Ehm, andiamo controllo. Ma sul tetto io. Io ho del punticciato. Non ci credo è arrivato uno con l'elicottero a schiacciarmi come un pollo. Oh, c'è stato questo con l'elicottero. Oh, c'è stato ancora quello su un'elicottero. Mi sa che stanno facendo wager queste. Guarda, guarda, quanto godo. Posso dire che godo? Oh. Oh, one shot. Bella le visse. Arriva, amico. Guarda, un secondo che ce n'è uno entrato sotto. Questa, resta, resta, resta. Vabbè, arrivati, arrivati. Guarda, è da te. No, Brody. No, ma che è successo? E io sono lontano, fra. Sono attente perché non c'è stata un'arma. Senza che la strega. Ah, ma non c'è stato uno dietro. No, tutti morono. Ok. Tiro l'attacco, però. Aspetta, aspetta, fammi entrare dentro. No, è pieno. Eh, attenzione. Vai, io puoi aiutarti con la pistola. No, ma ho sparato l'amico da dietro, sennò lo facevo. Morto pure tu. Niente. È stato coraggioso di aiutarti con la pistola, però. No, non dovevi venire con la pistola. Ormai ero morto io. Ma se non c'era l'amico dietro, me l'ero fatto. Sono morto da eroe. Secondo me sei morto da C. Di socio. No, fammi il BIM quando devi vedere. È bellissimo. Eh, la facciamo domani una bella challenge. Dai, la facciamo domani. Uh, che è successo? La famo domani, dai. Che comunque adesso, tardi, beh, sono un po' stanco. Però è vero, è vero. Con la challenge mi prendo un po' di più. Però adesso sono un po' poco cotto, non ce la faccio più proprio. Però domani li facciamo. Magari è un orario un pochino prima. Oh, si sta posendo un'iterità, però, lì. No, frate. Ma come cazzo è possibile? Ah, boh. Vabbè, lascia lì stare. Non lo facciamo giusto. Ah, una grata vescola. Eh, ma qualcuno l'ha tirato da qua. No, qualcuno l'ha tirata magari anche da... Sì, vabbè, l'ha tirata da contro. Da contro non ce l'ha tirata qua. Non puoi mai sapere dove ti ti hanno le garantesca. Che schifo di armi. Wow, gunner, give me the money, please. Eh, l'ho mutato. Guarda che sei un tonno, gunner. Money, boom. Ma a me lo chiamatelo, cioè, stava sopra? Sì, 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 zio. I soldi. Niente, quello se ne va, fra. Non conta niente. Guarda là, 11.000 tir. Laccia la miseria. Cioè, ci servono i soldi sui per fare il lancio. Quello è sparito. Eh, adesso io non lo faccio uscire dalla stanza. Come fai a non far uscire dalla stanza? Gunner, ci sei? Ma non è italiano, non è che ti capisci se tu dici. Money, money, man. Non lo faccio uscire dalla stanza. E l'asse l'ha preso, l'ha sequestrato. Una pianeta è lì, vissi. Eh, niente, l'avete fatto voi. Minchia, lo stavo seguendo io. Eh, sul tetto di briso c'è gente. C'è sta ancora gente, qualcuno a control. Lo possiamo fare noi. Lo possiamo fare con i nostri tre soldi. Oh, che laggata mi ha dato. Tu lo capisci, ragazzi? Posso dirgli la regala. Posso dirgli la regala. Eh, guadio, è successo qualcosa. Eh, guadio. No, non c'è quest'è lì, no. Dove, 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 che sei fatto? Eh, sul tetto, ne ho fatti due. Ma di dove? Il tetto di cosa, però, di... Eh, prison, prison, però, lo chiamato prima. Ah, se erano in bordo, dove sono andati? Non ce n'era ancora uno a control, non lo trovo ancora. Una lì sopra, ragazzi. What? Lì sopra. Fatto questo, dall'altro dov'è? Oddio, ho scrivato il coltellino, come se fosse un altro player. Però, pingava qua, non c'è più, brah. Oh, è che è andato? È impossibile che ha girato. Ma ha quitato, forse. No, 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 ha quitato. Beh. In teoria stava uno nella casetta, se non vado errato, ha pingato. Lupo, lupo, ha una casetta piccola, vai, ti coprego. Se esci, ti coprego, vai. E stanno a nave gli altri. Non c'è più, non c'è più casetta piccola. Oddio, sono sopra, due sono qua. No, nave, 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 non ci voglio credere. È atterrato nave. Eh, gli altri stanno sotto. Quanti è andato ancora? Uno, uno, uno. Mi ha fatto la due. L'altro è arrivato ora, non c'era. Ok, uno, ragazzi. Sulla d'alta, ha detto control. Attenzione, eh. No, si è buttata, non c'è più, è libero. No, porco, è ce l'ho da una piastra in meno, avevo. Ragazzi, mi bussia dalla navezza, dalla navezza. Carra uno? Lupo. Questo è arrivato, è arrivato in volo fra, l'ho craccato, niente, se è sopravvissuto. No, mi disciollo. Raga, chi devo bussare? Fatti, 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 che non si è la nave, non li ho tolti. Ah, sta fa... Minchia che c'è voluto. E ma gli stanno entrando a contro Sto solo coprendo Sto solo coprendo Stanno entrando a contro Uh c'è butto a torno da prison No 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 Non lo so Non credo Ok stanno arrivando Della propensione Ehi Eh non lo posso restare sto botto dei gunner Oh No 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 One shot Non posso fare niente Guarda lì si è restato quello mio Guarda Peccato Ma è una diceria Ma è una diceria E' una diceria Non hanno confermato nulla Perché se sono cotto Non hanno confermato C'è lui Al momento Da quello che so io Non è confermato nulla Dicono Magari La rimettessero Dicono 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 Non ci credo Ma davvero? Cosa? No no io torno lì Fra se rimettono merdasco torno lì tutta la vita Oh Bra basta Bombard Eh non potevi fa nulla fra i recontro 4 Non stanzi Poi l'altro che continua a pingamo Tacci sua Amici Va bene No pur io Pur io veramente Sono arrivato alla fine anch'io Bella Vigil Sono arrivato pur io alla fine voglio Veramente non ho più le forze Sono proprio a cotto a puntino Eh pur io Pur io proprio No Bella Lupus Buonanotte Buonanotte No veramente Non li vedo più frate Non ci sto a capire più niente Oh ha staccato senza Vabbè faccio bella Tex Buonanotte Ciao Allora fatevi una cosa Peccato Mancava l'ultima vittoria Ad arrivare alle 7 e 90 Quanto stiamo? Oh cazzo Se me lo dicevi ci provavo di più No 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 Vabbè la faccio domani Dai ma alla fine Alla fine ero Ero da solo contro 4 No non potevi fare niente Non potevi fare nulla Dai Bella Lupus Buonanotte Buonanotte bro Buonanotte Buonanotte Niente ragazzi Vado a dormire Regà Dai Domani Domani che è? Cioè è mercoledì Vabbè no Nessun torneo Niente Blah 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 Quindi andiamo a fare un po' di vittorie Andiamo a fare un po' di vittorie in pubblica domani Dai Ci becchiamo domani Ragazzi Buonanotte Luca Buonanotte a tutti Un bacione Andate a dormire Riposatevi Domani Vediamo se ci sono Magari Si potrebbe fare anche una sessione Dipende che ora mi sveglio però Un pranzo O pomeriggio Un Due orette Vediamo Vediamo un pochettino Buonanotte Maurizio Buonanotte a tutti Grazie a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Grazie a tutti Buonanotte a tutti Grazie a tutti.